benvenuti nel mio mondo del pensiero estremo lean una volta che avrete sperimentato i vasti vantaggi di lean lo desidererete lo desidererete ancora di più e farete di tutto per ottenerlo perché il pensiero lean ha fatto una grande differenza nella mia vita sia a livello personale sia professionale ho scelto il titolo di questo libro per comunicare quanto sia facile costruire una cultura lean vibrante se da una parte esistono tanti libri su lean devo ancora trovarne uno che sia divertente i miei compagni di mountain bike direbbero è roba da matti infatti quando sono andato a cercare libri o siti web da consigliare ho trovato solo libri pieni di diagrammi complicati e teoria delle scuole di business o che ritengono di essere tali sicuramente non il lean divertente che sono giunto a conoscere e ad amare questo libro non è destinato a studenti di economia e finanza o a chi è interessato alla teoria della produzione o al diagrammi di flusso questo libro intende aprire la porta dell'opportunità per le persone che vogliono migliorare la propria vita quotidiana sia sul posto di lavoro sia nella propria casa lean non è così complicato come tutti gli esperti e i libri di testo vogliono farci credere infatti imparando a integrare un approccio lean alla tua vita vedrai che quanto più adotterai il pensiero lean nella tua vita quotidiana tanto più ti piacerà la vita il pensiero lean ha trasformato il mio lavoro da una piccola azienda nel mio garage a un'impresa internazionale con un fatturato di molti milioni di dollari ho i dipendenti più motivati e felici che qualsiasi imprenditore possa mai sperare vivo il sogno americano perché qualcuno ha condiviso con me il genio del pensiero lean come i miei mentori giapponesi voglio trasmettere agli altri il dono del pensiero lean e creare una cultura più prospera e produttiva in tutto il mondo il pensiero lean è divertente ed emozionante le idee che ho imparato dai miei amici lean sono rivoluzionarie ho cercato di scrivere un libro lean breve visivo e semplice ed esistono molti workshop manuali esecutivi e libri di testo sul mercato ma io volevo scrivere un libro che rendesse lean accessibile a tutti dal muratore al dirigente d'azienda come faccio di solito leggo un libro ogni settimana per il mio sviluppo intellettuale e ogni volta che ne terminavo uno ho sempre fatto un piccolo gioco mi chiedo qual è l'insegnamento che applicato seriamente rivoluzionerebbe il mio mondo allora ho inserito questa sfida alla fine di ogni capitolo aggiungendo un riepilogo chiamato l'idea chiave questo riassunto sintetizza i punti principali di ogni capitolo nel modo più l'impossibile in qualsiasi momento è possibile rivedere e memorizzare rapidamente i principi e ora allacciate le cinture di sicurezza che cominciamo una corsa smisuratamente energetica nel momento in cui cominci a pensare a vivere lean questo è 2 second lean il lean in due secondi terza edizione scritto da paul acres e narrato da simone caneparo per le risorse e ulteriori informazioni vai su paul acres.net ciao sono simone e ho scoperto 2 second lean circa due anni fa da allora la mia vita ha cominciato a migliorare continuamente grazie agli insegnamenti e ai consigli che paul acres ha condiviso in questo libro e nei video che continuamente scarica su youtube sono riuscito a portare costanti miglioramenti a casa nel luogo di lavoro e nel mio hobby che la musica con l'approccio lean la mia vita è quella di chi mi sta intorno è diventato più semplice e piena di divertimento il mio lavoro principale è quello di tecnico di supporto software per una grande azienda dove applico costantemente i concetti lean al fine di portare quanto più valore aggiunto al cliente eliminando gli sprechi nel campo della musica sto lavorando all'arrangiamento e registrazione del salterio ginevrino 129 melodie del sedicesimo secolo e ho un canale youtube dove spiego come applico lean a questi tre campi questo canale si chiama the italian job e il link è qui sotto dopo aver sperimentato su di me i vantaggi di lean ho deciso che così come avevo ricevuto gratis così avrei voluto rendere gratis anche questo servizio pertanto mi sono offerto di leggere questo libro to second lean per renderlo accessibile in formato audio in lingua italiana dato che vivo all'estero da molti anni ti chiedo di non vadare a qualche errore qua e là in fondo la perfezione la lasciamo a chi non fa nulla e ora to second lean in lean in due secondi capitolo 1 cosa è lean dieci anni fa cominciavo il mio percorso lean prima di allora non ne avevo mai sentito parlare ma quello che è accaduto è più che sorprendente nel 1997 mia moglie ed io abbiamo avviato la nostra azienda la fasca nel nostro garage la fasca è una società di sviluppo di prodotti specializzata nella produzione di attrezzi e di articoli di ferramenta innovativi destinati ai produttori di mobili e alle imprese di costruzione perché mai i prodotti per la lavorazione del legno perché sono un artigiano appassionato che vive e respira per ogni opportunità di massaggiare un pezzo di mogano delle honduras il nostro primo prodotto il fasca è un tappo adesivo che serve a coprire i fori delle viti all'interno degli armadi il nostro secondo prodotto fu uno strumento di posizionamento laser chiamato laser jam avevo inventato questi prodotti quando costruivo armadi ho scoperto un modo per produrre e vendere questi articoli in un mercato in cui ero esperto a proposito il mio prossimo libro sarà come inventare e vendere il tuo genio andammo in una banca per richiedere la nostra prima linea di credito che era di 250 mila dollari che per noi erano un sacco di soldi la sezione prestiti della banca aveva approvato il finanziamento ma poiché la maggior parte delle piccole imprese fallisce il presidente fu più cauto volle visitare personalmente la fasca per assicurarsi che le cose fossero a posto perciò venne a fare un giro in azienda mentre camminava attraverso la nostra struttura notò che le cose erano estremamente organizzate che avevamo una cultura disciplinata e le cose funzionavano molto bene dopo il giro mi disse po ti presterei qualsiasi somma di denaro tu voglia non sono mai stato in un'azienda così ben gestita e organizzata sembra proprio che tu sappia esattamente cosa stai facendo essendo un imprenditore orgoglioso quello era esattamente il massimo complimento che avrei potuto desiderare mia moglie lian e io eravamo molto impegnati a sviluppare la nostra attività e avevamo appena vinto il premio business startup dell'anno per la tea di watcom inutile dire che l'impressione del presidente della banca aveva confermato i nostri sentimenti che stavamo operando estremamente bene stavamo producendo un buon profitto la nostra attività stava crescendo e la nostra azienda aveva una cultura giovane innovativa e dinamica tutto sembrava e funzionava bene cosa ci potrebbe essere di sbagliato in un'attività redditizia che ispira una tale fiducia da parte del presidente della banca locale questo suscita la domanda potrebbe un'azienda con così tanto successo avere problemi significativi da dovere affrontare avevamo problemi di inventario in particolare con la gestione del ricevimento delle materie prime assunsi un consulente di produzione per vedere se poteva suggerire un programma software per gestire in modo più efficiente il nostro inventario dopo aver visitato tutta la nostra struttura gli chiesi allora tracy cosa ne pensi mi puoi aiutare la sua riluttanza era inquietante disse beh non lo so e io le dissi beh quale pensi che sia il mio problema fece una pausa guardò intorno al magazzino e disse vuoi sapere la verità gli risposi naturalmente e lui mi disse tu non sai cosa stai facendo e non sai come fabbricare ai una settimana prima il presidente della banca mi aveva detto che fast cap era la migliore compagnia che aveva mai visto e ora questo ragazzo mi diceva che non sapevo cosa stessi facendo e che essenzialmente ero in una caduta libera per capire quanto mi avevano colpito queste parole dovresti conoscere il mio passato fino a quel momento avevo eccelso in ogni cosa che avevo tentato nel corso della mia vita a 14 anni avevo guadagnato il rango di eagle scout a 16 anni costruì il mio primo strumento musicale e colpì bob taylor al punto che mi assunse per lavorare alla taylor guitars sono stato benedetto di poter prendere parte alla costruzione delle prime 2000 chitarre che sono uscite da quella fabbrica dopo essermi laureato e in seguito a un'esperienza nell'industria manufatturiera sono diventato un insegnante di arti industriali per poi essere assunto per gestire un complesso edile di 100 appartamenti questo era un progetto di costruzione molto complesso e intimamente legato al processo produttivo inoltre ero stato uno dei principali costruttori per la casa dell'editore di architectural digest a bel Air california e avevo restaurato molte delle più belle case storiche di pasadena tutte nei miei primi 20 anni non solo ero sicuro di avere capito i principi della produzione ma avevo anche avuto una ricca esperienza nell'industria manufatturiera che lo comprovava oltre a un elenco impressionante di risultati e adesso questo ragazzo che stavo pagando per aiutarmi a migliorare la mia impresa mi stava dicendo che non sapevo cosa stavo facendo nonostante ciò chiesi con umiltà va bene tracy cosa devo fare mi rispose devi imparare qualcosa chiamato tps toyota production system chiamato anche sistema di produzione lean chiesi che cosa è lean stavo per scoprirlo l'idea chiave il tuo orgoglio non ti farà vedere le cose che dovresti imparare di più lean lavora per te identifica la cosa che sei veramente bravo a fare sorpresa è probabilmente la cosa in cui hai maggiori sprechi e in cui puoi applicare lean nel modo più efficace capitolo 2 vuoi dirmi che sono un incapace la settimana successiva dopo la famosa frase non sai come produrre due ragazzi di nome brad e john si presentarono alla nostra porta brad e john erano stati missionari in giappone e lavoravano come traduttori per un consulente giapponese che insegnava lean a società americane avevano imparato i concetti così bene che avevano deciso di avvirare la loro attività di consulenza e la mia azienda la fast cup fu la loro prima vittima ero rimasto impressionato dalle loro osservazioni ma i loro servizi avevano una tariffa che mi stordì costava 10.000 dollari per settimana e la mia era una piccola impresa non una banca questo era assolutamente fuori della mia portata ma sapevo che se volevo portare la mia attività a livello successivo avevo bisogno di aiuto c'era qualcosa nel loro approccio pragmatico che mi colpì allora applicai la massima pressione su mia moglie lean e la convissi a farmi investire quei soldi quella si dimostrò una delle decisioni più preziose che abbiamo mai fatto il viaggio stava per essere serio sarebbe come andare dalla partitella tra amici del dopo lavoro a un allenamento per andare nelle olimpiadi la routine o i giorni normali erano ormai storia fecero domande su tutto a cominciare da perché fai così tanto prodotto finito e risposi perché ci vuole molto tempo per impostare la macchina per ogni variante del nostro prodotto meglio produrre una certa quantità per ogni tipo e poi prelevare dal magazzino man mano che arrivano gli ordini nei prossimi mesi brad e john mi dissero che quello era spreco perché bisogna immagazzinare inventariare e gestire tutti quei beni se fai solo quello che ti occorre non hai bisogno di immagazzinare inventariare e gestire niente questo elimina un'enorme quantità di rifiuti se il tempo di messa a punto della macchina è un ostacolo devi trovare un modo per impostarla più velocemente invece di metterci 45 minuti prova a ridurre il tempo di impostazione della macchina fino a 5 minuti guarda dissi io potrei essere tuo padre lo sto facendo da anni non c'è modo di preparare la macchina in 5 minuti e farle produrre articoli di qualità brad sorrise disse hai molto da imparare su lean la settimana successiva osservarono il nostro processo produttivo e valutarono tutto quello che facevamo da come prendevamo le vernici come cambiavamo gli attrezzi più rapidamente la distanza percorsa per accedere a determinate attrezzature nel negozio per allineare le varie parti delle nostre macchine ogni fase del processo fu valutata per efficienza e semplicità finimmo con l'apportare modifiche significative che ridussero drasticamente il tempo di preparazione della macchina il che ci permise di produrre con facilità le varie dimensioni forme e colori secondo gli ordini specifici dei clienti piuttosto che produrre tutte le variazioni possibili in massa udite udite anziché impiegare 45 minuti e con un grandissimo sforzo riuscimo ad avere la macchina pronta e senza fatica in soli 5 minuti stavo davvero ingoiando un grande rospo ma ancora più importante da allora oggi abbiamo continuato a migliorare il processo portandolo fino a due minuti questa era la mia introduzione al pensiero lean ero assolutamente certo che le idee di brad e john erano impossibili da mettere in pratica ma proprio lì davanti ai miei occhi in un paio di settimane vidi l'impossibile materializzarsi questa prima esperienza con la produzione lean mi fece conoscere due principi fondamentali del pensiero lean l'eliminazione degli sprechi e il miglioramento continuo mentre il direttore della banca era rimasto impressionato dall'aspetto di un laboratorio pulito e organizzato brad e john hanno immediatamente visto un negozio di dipendenti oltremoto impegnati in un processo che produceva un inventario inutile che poi richiedeva una gestione e un monitoraggio costanti per eliminare gli sprechi di inventario in eccesso abbiamo dovuto analizzare attentamente i nostri processi e trovare modi per migliorarli il pensiero lean presuppone che tutto possa essere migliorato continuamente senza fine se pensi che l'idea di miglioramento sia come andare in vacanza qualcosa che fai un po di volte l'anno e poi ritorni a lavorare stai per avere un enorme sorpresa dopo aver letto il libro the toyota way ho scoperto positivamente quanto sia davvero radicale l'idea di miglioramento continuo ora capisco che l'energia sprecata il denaro sprecato le risorse sprecate e il tempo sprecato continuano a insidiarci ogni giorno se pensi che la tua vita o la tua attività siano ben rodate se nel buio totale la toyota fa ancora a livello mondiale milioni di miglioramenti ai propri processi e pensano lean da più di 50 anni come dice il mio buon amico e compagno di lean jeff kass lo spreco è come la gravità ci attira 24 ore su 24 e se non hai un metodo per vincerla tu perdi e lei vince l'idea chiave tu e io generiamo sprechi 24 ore al giorno lean funziona anche per te inizia a scrivere un diario e per una settimana registra tutte le attività e i processi di ogni giorno che possono contenere sprechi alla fine della settimana vedi se ci sono altre cose che hanno più sprechi di quanto siano proficue produttive ed efficienti i risultati ti potrebbero sorprendere capitolo 3 one piece flow il flusso a pezzo singolo le settimane successive furono per me come un ritiro religioso un'immersione in un nuovo modo di pensare dopo la mia introduzione al potere dell'eliminazione degli sprechi e al concetto di miglioramento continuo mi venne presentata l'idea di flusso a pezzo singolo cioè la produzione di un pezzo alla volta questo concetto è quasi del tutto innaturale per la mente occidentale moderna per tutto lo scorso secolo la nostra cultura è stata immersa in un'economia manufatturiera che si basa sulla produzione di massa viviamo nell'epoca di più grande è meglio e confezioni famiglia e se qualcosa è buono di più è meglio non è vero e la fast cap non è stata un'eccezione avevamo fatto funzionare la nostra fabbrica con i principi della produzione di massa pensando a grandi lotti che è esattamente l'opposto del flusso a pezzo singolo o one piece flow alla fast cap producevamo enormi quantità di prodotti indipendentemente da quanti ordini effettivi avessimo perché credevamo di risparmiare tempo e denaro come emerso usando il modello di produzione a lotti stavamo creando più lavoro e montagne di sprechi uno dei nostri articoli in laser jam lo producevamo in lotti di 100 secondo i nostri calcoli occorrevano circa 45 minuti per produrre ogni laser jam un lotto di 100 richiedeva circa 75 ore di lavoro per completarlo dall'inizio alla fine producendo in lotti di 100 pensavamo che risparviavamo tempo assicurandoci che avevamo sempre il prodotto a disposizione per gradere gli ordini non appena arrivavano quando brad e john ci suggerirono di iniziare a farli uno alla volta e solo a fronte di ordini ricevuti pensai che fossero fuori di testa credo che le mie parole vere furono no questo non funzionerà mai mi viene ora in mente un detto americano insegnare nuovi trucchi a un cane vecchio l'ambiente di produzione che avevo creato richiedeva enormi quantità di spazio dedicato alla realizzazione di questo prodotto producendoli in lotti di 100 significava che avevamo bisogno di trovare posto per 100 laser jams per ogni passo del processo per cominciare avevamo bisogno di abbastanza spazio di lavoro per tenere 100 laser jam alla volta questo aveva creato una situazione così dispersiva che richiedeva risorse di trasporto per spostare i laser jam da una parte all'altra della fabbrica il processo di produzione a lotti stava consumando il nostro spazio le attrezzature le risorse personale e il denaro io vedevo tutto questo come un male necessario in cambio dell'efficienza fare 100 pezzi alla volta era per me la cosa più logica in umile rispetto verso le raccomandazioni di brad e john iniziamo a realizzare un laser jam alla volta al primo sguardo di un qualsiasi esperto produttore questo processo sarebbe troppo noioso e richiede molto tempo per avere un senso ero stato ansioso per dimostrare a questi cosiddetti esperti che questo processo sarebbe stato futile li stavo divertendo o così pensavo la prima settimana la passarono a riordinare tutto quello che producevamo in piccole cellule produttive a forma di un sembrava che una rivoluzione asiatica avesse appena invaso la mia azienda e che io fossi la vittima ti ricordi quanta fiducia avevo nella mia grande azienda e nella mia capacità produttiva ebbene era dir poco umiliante vedere questi giovani inesperti riorganizzare quasi tutto nella nostra azienda privando il nostro laboratorio dei componenti più fondamentali era come se qualcuno dicesse paul il tuo bambino è brutto ce ne occupiamo noi questo era troppo per la mia azienda tra virgolette giovane e moderna che cosa pensi che sia successo ancora una volta i miei occhi furono aperti alla magia del pensiero lean utilizzando il flusso a pezzo singolo ogni laser jam era prodotto dall'inizio alla fine da una persona che era in grado di ispezionare visivamente l'intero pezzo mentre lo stava assemblando questo processo di un pezzo alla volta ci consentiva ora di individuare gli errori non appena accadevano forse un foro era fuori centro o forse una manopola non era avvitata correttamente qualunque fosse l'errore eravamo riusciti a catturarlo durante il processo di produzione per ciascun laser jam piuttosto che alla fine di un lotto riparare un laser jam difettoso è facile doverne riparare 100 alla fine di un lotto è un disastro miglioramenti come questi ebbero un effetto trasformante esponenziale non solo cominciamo a vedere che ogni pezzo veniva prodotto con più cura personalizzata e attenzione pochissimi errori semmai accadevano ma il resto del processo cominciò ad andare più liscio riempire gli ordini caricare spedire fatturare e il flusso di cassa in entrata in uscita associato a questo processo fu immediatamente più semplice anziché avere 100 laser jam da immagazzinare inventariare e tracciare ora ne avevamo zero perché ogni laser jam veniva prodotto per evadere un ordine veniva prodotto confezionato inscatolato spedito e pagato ciò significava anche che non spendevamo soldi producendo qualcosa che non era stato ancora venduto avevamo molto meno inventario e ore di lavoro a riposare sugli scaffali una buona visuale è quella di immaginare tutte le merci finite come se fossero teste di lattuga che marcivano col passare del tempo il flusso a pezzo singolo semplifica e migliora ogni altra parte del processo produttivo questo pensiero lean cominciava ad acquistare senso per me in un modo davvero inaspettato l'idea chiave produci in lotti e ci saranno sprechi dappertutto o produci un pezzo alla volta e gli sprechi spariranno come per magia lean funziona anche per te identifica un'area dove attualmente fai lavoro a lotti pensa a quanto tempo ti serve per fare 10 pezzi in un lotto ora cronometra quanto ne fai uno alla volta fino ad arrivare a 10 pezzi capitolo 4 il meglio deve ancora arrivare il mio viaggio lean mi stava conquistando era esilarante andare attraverso questo processo di trasformazione a ogni suggerimento per miglioramenti passava attraverso fasi di incredulità e dubbio per passare a un'umile rassegnazione e alla fine essere premiato in completa e assoluta sorpresa poiché un risultato più semplice più efficace e meno costoso si era svelato davanti ai miei occhi da allora il mio occhio critico si è sviluppato a tal punto che vedo sprechi in tutto ciò che facciamo in fast cap anche se vivo lean da più dieci anni e la gente viene da tutto il mondo per vedere capire la nostra cultura lean credo che il 90 per cento di tutto quello che facciamo è spreco ecco gli otto sprechi che affliggono tutti noi il primo è la sovrapproduzione il secondo è l'elaborazione eccessiva il terzo sono le scorte il quarto sono i difetti il quinto è il trasporto il sesto movimento settimo i tempi di attesa e l'ottavo che è il peggiore è il genio del personale non utilizzato scoprire il componente degli sprechi non è un onere ma un gioco una gigantesca caccia al tesoro lean non rende le cose più difficili ma si concentra sulla semplificazione intenzionale di qualsiasi processo quando un processo viene reso più semplice si ottiene un risultato migliore e più soddisfacente con meno sforzo questo punto non può essere sottovalutato lean non vuol dire lavorare di più e più freneticamente ma fare le cose in modo semplice non si tratta solo di rendere tutto più veloce ma di migliorare la qualità di tutto quello che fai raramente un cambiamento enorme o drastico piuttosto sono passi piccoli piccoli in un percorso senza fine di miglioramenti continui e quotidiani i grandi cambiamenti sono fantastici ma lean non è solo questo ho appena condiviso come lean fu introdotto nel mio modello di impresa e come abbia prodotto risultati impressionanti le implicazioni di come questo pensiero possa influire sulla propria vita personale sono a dir poco stupefacenti se non l'avessi ancora detto e continuerò a dirlo lean vuol dire eliminare gli sprechi e migliorare continuamente avvicinandosi a tutto quello che fai con l'obiettivo di rendere le cose più semplici se ci vuole un'ora per fare qualcosa chiediti come si può fare in 30 minuti non devono essere 30 minuti frenetici ma 30 minuti che ottieni eliminando gli 8 tipi di sprechi poi quando lo riduci a 30 minuti chiediti come puoi farlo in 15 minuti e dopo aver ridotto il tempo a soli 7 minuti preparati a saltare di gioia non ci vorrà tanto tempo e avrai eliminato completamente il processo e potrai gioire lean è l'arte della sottrazione non l'aggiunta lean vuol dire ridurre continuamente il flusso di sprechi che è presente in tutto ciò che fai nella tua vita come ti prepari il pranzo o il modo in cui ti vesti la mattina può semplificare come raccogliere le chiavi dell'auto e la borsa prima di andare al lavoro come preparare i bambini la mattina il passo di famiglia il lavoro nel giardino la manutenzione della casa insomma tutto il pensiero lean si applica a ogni aspetto della vita e pertanto può migliorare ogni aspetto della vita sì diventare un pensatore lean rende la vita migliore in tutto tutto nella vita è un processo quando cominci a imparare come pensare lean di continuo ti comincerai a fare domande e comincerai a immaginare come rendere più veloci più sicuri e semplici questi processi e come migliorare la qualità di tutto ciò che fai ogni giorno non una volta non due volte ma ogni giorno farai piccoli miglioramenti per il resto della tua vita riesci a immaginare che tutto migliori ogni giorno non drasticamente ma migliorando sempre questo è quello che succede quando diventi un pensatore lean ed è un modo di vivere estremamente gratificante l'idea chiave trovare gli sprechi non è un onere ma un gioco una grande caccia al tesoro lean funziona anche per te guardati attorno e identifica nella tua vita un esempio per ciascuno degli otto sprechi dov'è la sovrapproduzione eccessi di elaborazione eccessi di scorte difetti trasporti perdite da movimenti tempi di attesa dov'è il genio non utilizzato capitolo 5 cosa ti dà fastidio fammi mostrare alcuni esempi di come io abbia implementato lean a casa e non solo al lavoro ho un guardaroba e ogni mattina quando entro nel guardaroba ci sono dieci abiti diversi oltre ad abbigliamento casual e sportivo il problema è che ho 50 anni e al buio non riesco a distinguere i colori facilmente quando ho costruito la casa 16 anni fa ho installato la luce nell'armadio funziona bene ma i miei occhi non tanto e con una sola lampada ci sono ombre angoli scuri per cui ogni mattina è una lotta mi sono ritrovato a tirar fuori un vestito dal mio armadio non il mio vestito blu scuro di poliester e camminare al centro della mia camera sotto la luce più luminosa per abbinare una camicia e una cravatta dopo tanti viaggi da e verso il guardaroba ho realizzato quanto fosse diventato noioso il processo di vestirmi allora mi sono domandato cosa succederebbe se mettessi altre due o tre luci fluorescenti non ci sarebbero più ombre o angoli scuri e questo divenne il mio progetto per il successivo fine settimana oggi il mio armadio è come se dio mi stesse parlando la mattina è così illuminato che quando accendo l'interruttore posso vedere ogni piccola sfumatura di colore tra i miei vestiti le mie camicie i miei pantaloni ora a cominciare la mia giornata con qualcosa di routine come vestirmi non mi frustra più né mi rallenta queste piccole vittorie sono psicologicamente liberatorie possono sembrare cose minime ma quando semplifichi un processo quotidiano necessario da uno sforzo tedioso avanti e indietro in un facile ventaglio di opzioni la vita diventa davvero buona davvero veloce mai più camminare avanti indietro basta tirare a indominare basta errori basta lavoro inutile e basta fastidi inutili avevo sofferto per 16 anni con quel problema e non l'avevo mai risolto con un momento in cui l'ho riconosciuto che quel processo mi colpiva veramente e un impegno a risolverlo che era il progetto del fine settimana ho migliorato uno dei primi processi che eseguo ogni giorno per il resto della mia vita lean significa aggiustare ciò che ti dà fastidio ho imparato questo concetto da carl wadenstein della vidco carl è un altro di quei rari pensatori lean che rendono lean semplice e divertente carl gestisce una grande azienda a providence road island che produce vibratori industriali per la movimentazione di materiale sfuso e calcestruzzo carl ha uno spettacolo radiofonico chiamato the lean nation la nazione lean e va in giro per la sua azienda indossando un casco dicendo siamo in guerra con gli sprechi carl è uno dei miei migliori compagni lean e mi ha convertito a questo concetto lui mi ricorda lean significa aggiustare ciò che ti dà fastidio e quello che mi dava fastidio era che non riuscivo a vedere i miei vestiti nel mio armadio così ho preso azione e l'ho fatto succedere ora per il resto della vita mi potrò godere l'esperienza di vestirmi al mattino con una buona illuminazione mentre faccio le mie scelte inoltre ho guadagnato punti dolci su mia moglie perché condivide lo stesso armadio e adesso può vedere anche lei i suoi vestiti meglio tutti vincono e questo è un altro dei vantaggi di lean a casa mia ho fatto letteralmente centinaia di miglioramenti lean ma ce n'è uno in particolare che è il mio preferito ogni mattina mi faccio il tè e mi piace aggiungerci un pacchetto di splenda che è un dolcificante un po di cannella e poi il mio tè lo faccio ogni mattina e il processo è abbastanza diretto apro il cassetto estraggo un pacchetto di splenda lo apro lo verso nel mio bicchiere da tè lo giro vado verso il cestino metto il pacchetto vuoto di splenda nel cestino poi metto un pizzico di cannella nella mia tazza metto via la cannella metto il sacchettino con il tè vado verso il rubinetto dell'acqua calda metto l'acqua calda e ho finito a dire il vero non mi piace per niente strappare quelle confezioni di splenda per aprirle e lo facevo da anni ma mi faceva impazzire così un giorno ho deciso di comprare lo splenda sfuso ho comprato una piccola zuccheriera e ci ho messo lo splenda in seguito la mia routine cambiò leggermente prendevo la tazza ci versavo un po di splenda un pizzico di cannella il sacchetto di tè l'acqua calda e il tè era pronto così avevo risparmiato 5 secondi senza dover strappare la bustina di splenda ora so che tu starai pensando questa sia una piccola cosa ma sono le piccole cose che formano le grandi cose poi mi sono detto io sono l'unico che usa la cannella e splenda in casa allora perché non prendere semplicemente la cannella e metterla nella zuccheriera con lo splenda ancora una volta la mia routine era stata semplificata adesso mettevo prima il mix di splenda e cannella poi la bustina di tè l'acqua calda e il tutto senza fare un solo passo in questo modo avevo risparmiato 10 secondi ogni giorno per il resto della mia vita ora di solito faccio 3 o 4 tazze di tè al giorno per cui se moltiplichiamo 3 volte 10 secondi andiamo a vedere come fare il tè è molto più semplice e arriva alla porta molto più in fretta inoltre pensate a tutti gli altri sprechi che ho eliminato su un livello più globale perché ci sono molti processi coinvolti c'è quello di acquisire splenda in quei pacchetti gli sprechi coinvolti nella mano d'opera e nella produzione che entra nel fare i piccoli pacchetti di carta qualcuno deve fare stampare trasportare questi pacchetti quindi consegnare il prodotto finale al negozio poi qualcuno nel negozio deve inventariarlo poi arrivo io che lo devo comprare portare a casa lo metto nel cassetto poi lo uso e lo butto nella spazzatura poi arriva il camion di rifiuti che lo raccoglie lo porta alla discarica qualcuno alla discarica lo deve afferrare e poi la discarica deve trattare i rifiuti ci sono molti sprechi associati a quell'atto eppure ciò accadde miliardi di volte al giorno in tutto il mondo e non solo con splenda ma con tante altre cose e adesso ho eliminato tutto questo non devo sprecare quella carta non devo abbattere quell'albero per cui lean è veramente un concetto ecologico ti mostro altri due esempi di quello che ho fatto in casa mia anche se potrei continuare per sempre questo però è quello preferito e favorito da tutti quelli che odiano pulire dopo avere falciato il prato io devo falciare il mio prato ogni settimana come la maggior parte di noi devo tagliare l'erba in due acri quindi uso un grande tosa erba commerciale gli scarti della tosatura li raccoglievo in buste ma questo era molto tempo e un sacco di sprechi perché dovevo scendere dal tosa erba per svuotare le buste diverse volte durante il processo qualcuno mi ha suggerito di pacciarla ho detto che non volevo farlo veramente perché il prato avrebbe avuto un brutto aspetto beh ho imparato che se tagliavo il prato un po più alto e ottenevo meno scarti il mio prato sarebbe stato più bello a lungo termine quindi ho iniziato a pacciarlo ora devo concimarne meno perché l'erba pacciata in realtà molto più sana per il prato ho risparmiato tempo denaro e non devo più concimare l'erba come facevo prima un'altra scocciatura era la pulizia dalla parte inferiore del tosa erba per farlo dovevo proprio andare sotto e spruzzare e pulire la parte inferiore della falciatrice perché l'arma umida si aggrumava intorno alle pale siccome vivo nella costa nord ovest degli stati uniti dobbiamo falciare l'erba anche quando è umida perché piove spesso e questo era un grosso problema e un sacco di lavoro dovevo scendere dalla tosa erba prendere un tubo di gomma inserirlo sotto la macchina e pulire la parte inferiore questo era un processo molto intensivo e non mi piaceva farlo allora ho pensato che succede se metto un tubo in terra ci faccio dei fori ci aggancio un tubo da giardino a cui connetto un rubinetto di deviazione a quel punto posso guidare la falciatrice sopra il tubo girare il rubinetto e l'acqua viene spruzzata nella parte inferiore ebbene l'ho provato e indovina cosa ha funzionato mi ha risparmiato tanto di quel tempo e non dovevo più andare avanti e indietro e spegnere il tosa erba lean è un processo di miglioramento continuo giusto non mi piaceva vedere il tubo flessibile e il tubo così scoperti pertanto ho portato la modifica a un passo successivo che cosa succede se copro quel piccolo tubo con calcio e struzzo tagliassi un piccolo foro e posassi il tubo là dentro quindi posassi il calcio e struzzo sopra la parte superiore così che solo i piccoli fori siano visibili nel cemento di nuovo appena arrivato tiro la leva indietro e l'acqua viene spruzzata fuori dal cemento il mio sistema di pulizia del ponte è stato mimetizzato era una soluzione pulita non più tubi sciolti in giro ed era funzionale beh l'ho messo in pratica e sai che cosa funziona alla perfezione ora i miei amici sono affascinati da questo meccanismo fenomenale che ho costruito perché perché davvero bello e divertente ed è questo il pensiero lean ora quando finisco di falciare il prato è facile e divertente pulire la parte inferiore del tosa erbe mi fa sentire bene fare continui miglioramenti nella mia casa e un altro esempio è uno dei miei preferiti perché è così semplice le mie due figlie che hanno rispettivamente 16 e 18 anni amano mangiare il pane tostato fanno il pane tostato e siccome sono adolescenti lasciano quel coltello da burro sul bancone e francamente questa abitudine mi stava facendo impazzire da moltissimo tempo non importa quanto le abbia pregate di mettere il coltello del burro sul bordo del piatto o nella lavastoviglie o per un giorno o due funzionava perché sono brave ragazze e mi ascoltano davvero lo fanno ma dopo pochi giorni quel coltello tornava a farsi vedere sul bancone lasciando briciole e burro così un giorno mi sono chiesto perché il coltello da burro finisce sempre sul bancone la risposta fu perché il coltello da burro non si posa molto a lungo sul bordo del piatto del burro naturalmente scivola dal piatto allora mi sono chiesto cosa succede se uso un pennello invece che il coltello sul pane tostato allora sono andato al cassetto della cucina l'ho aperto e ho trovato questo pennello da pasticceria davvero carino rotondo con piccole setole corte e molto attraente l'ho preso l'ho messo nel burro morbido e il pennello rimane perfettamente in piedi nel burro morbido ho fatto un pezzo di pane tostato per provare questa idea ed ecco funzionava perfettamente il pennello da burro attaccato nel burro non cadeva molto facilmente appariva bello stava dritto nel piccolo piatto di burro e quindi quando sono tornato a casa quella sera mia figlia mi ha detto ehi papà quel pennello da burro è così bello è così pratico è questo il protere del pensiero lean lean funziona e la gente riconosce che funziona perché la vita è resa più semplice resa facile e qualcosa che mi dava veramente fastidio è stato risolto ora voglio fare una precisazione lean vuol dire davvero rimuovere quelle cose che ti danno fastidio questo è il modo in cui insegno lean perché è un punto di partenza divertente ognuno è in grado di capire e identificare le cose della loro vita che gli danno fastidio e che li fanno impazzire inoltre le persone si divertono a chiedere che cosa mi dà fastidio persone timide in un primo momento potrebbero non dire nulla ma ti garantisco che cominceranno a pensare e prima o poi saranno molto impegnate nel processo come lo sei tu quando riduciamo i concetti lean a idee semplici come questa tutti vincono ecco perché lean funziona ovunque si provi in casa e al lavoro la qualità della vita può migliorare basta chiedervi ogni giorno che cosa mi dà fastidio ti garantisco le tue risposte ti sorprenderanno l'idea chiave anche tu sei in guerra con ciò che ti dà fastidio lean funziona per te elenca cinque cose che ti danno fastidio in casa e cinque cose che ti danno fastidio al lavoro capitolo 6 domori goto signor lexus vorrei tornare a lean nei luoghi di lavoro perché come per tutti i viaggi il mio viaggio lean a un certo punto giunse a una situazione di stallo noto che questo succede ovunque io vada sia nel mondo industriale sia in quello commerciale ad alcune persone la stessa parola lean fa storcere il naso o come minimo provoca uno sguardo di frustrazione queste sono persone che hanno provato lean e hanno avuto le stesse difficoltà che ho avuto io queste difficoltà sono un segno che l'allievo non capisce la natura completa di linea i miei due viaggi in giappone nel corso di un periodo di cinque anni mi hanno fatto apprezzare in pieno il pensiero lean e la motivazione per attuarlo con efficacia nei primi tempi del viaggio la mia impressione di lean era che fosse uno strumento imprenditoriale molto promettente che avrebbe aiutato la mia azienda a espandersi e a crescere rendendolo un business più sofisticato e più efficiente utilizzando lean solo come uno strumento ti lascerà deluso perché è molto più di questo i primi tre mesi furono un'altalena di emozioni i cambiamenti anche se erano difficili da accettare portarono grandi risultati risparmiando all'impresa decine di migliaia di dollari e portando una mintata di aria fresca di efficienza e di semplicità alla fasca e tutto questo in soli tre mesi mi sentivo come un uomo nuovo come se avessi raggiunto un grande traguardo ora che sapevo quello che stavo facendo era giunto il momento per i consulenti di andare via giusto andiamo con calma questi che secondo me erano cambiamenti tremendi per i miei mentori erano quasi nulla quando dissi loro i miei piani per la costruzione di una fabbrica più grande mi guardarono come fossi pazzo protestarono perché hai già troppo e ancora non riuscivo a capire fu a quel punto che brad e john mi suggerirono di partecipare a un nuovo programma avrei viaggiato con diversi altri leader aziendali in giappone per un'esperienza di formazione in immersione nella produzione lin parte dell'escursione comprendeva un orientamento personale ravvicinato del sistema di produzione toyota tps come avrei potuto dire di no il giappone la terra santa la nazione madre del pensiero lin e naturalmente ho detto sì quel primo pellegrinaggio in giappone era come una valanga di apprendimento e di ispirazione fui sopraffatto da più informazioni e impressioni rispetto a quanto potessi elaborare le strutture di produzione erano istituzioni di efficienza e di semplicità era come guardare una persona compiere il lavoro di 10 negli spazi più politi e più organizzati che avessi mai visto non sapevo come stavo per riportare tutte queste informazioni al mio personale ma ne venni fuori convinto che lin avrebbe risolto molti dei problemi che avevo alla fast cap quando tornai implementai altri miglioramenti e detti inizio a quello che viene chiamato un evento kaizen un evento kaizen è quando un gruppo di dipendenti si concentra su un processo e ne esamina ogni passo poi lo mette insieme rimuovendo tutte le attività senza valore o gli sprechi si tratta di un approccio di squadra per migliorare negli anni successivi la fast cap ha visto molti miglioramenti abbiamo tagliato un sacco di sprechi semplificato processi e abbiamo visto la nostra attività crescere costantemente devo ammettere però che la produzione lin ha cominciato a sembrare oppressiva notai che era diventata la sola forza trainante dietro la nostra implementazione lin i progressi si vedevano solo fin quando ero in giro a stimolare idee o a condurre sessioni di brainstorming o eventi kaizen appena mi allontanavo o partivo per un viaggio d'affari le cose sembravano ritornare come prima era come spingere un treno quando vedo persone che hanno implementato lin senza successo la loro frustrazione è comune è che non sono riusciti a far mettere le radici lin nelle loro aziende credo che questo possa essere il motivo per cui molte persone rinunciano a lin sono eternamente grato di non avere rinunciato perché quello che è accaduto nel mio secondo pellegrinaggio in giappone è stato un momento spartiacque su come ho capito il quadro generale ho scoperto il collegamento mancante critico nei miei metodi e perché non sono mai riuscito a far prendere il pensiero lin in azienda avrei dovuto andare oltre l'oppressione di creare eventi lin e questo secondo pellegrinaggio in giappone mi diede la giusta prospettiva di cui avevo bisogno il momento più importante di questo secondo viaggio fu il tour della fabbrica di automobili lexus e una conferenza di due ore del vice presidente della lexus la fabbrica della lexus è uno dei modelli più eleganti e affascinanti di produzione che abbia mai visto alla fine del tour chiesi al vice presidente una domanda molto diretta qual è la cosa più importante per toyota speravo mi desse una risposta diversa da quella molto ovvia eliminare gli sprechi attraverso il miglioramento continuo dato che questi sono i pilastri della produzione lin io volevo a tutti i costi sentire qualcosa di diverso qualcosa di più ispirante anche se non avevo idea di quale risposta avrei ricevuto e il vice presidente non mi deluse senza esitare disse la cosa più importante per toyota sono le persone toyota è fondata sull'insegnamento e la formazione delle persone e sulla costruzione di una cultura di miglioramento continuo non ci interessa il prossimo ibrido la prossima meraviglia ingegneristica nemmeno la prossima strategia di vendita la nostra preoccupazione numero uno è come far crescere la nostra gente e come costruire una cultura di miglioramento continuo non era la risposta che mi aspettavo ma fu il mio momento eurica di quel viaggio avevo trascorso gli ultimi cinque anni concentrandomi sugli sprechi e sul miglioramento continuo toyota invece era ossessionata dalla costruzione di una cultura attraverso l'insegnamento e la formazione delle sue persone io al contrario stavo cercando di convincere il mio personale ad abbracciare il pensiero lin attraverso eventi lin il mio errore era causato dalla mia attenzione verso i processi piuttosto che sulle persone dovevo concentrarmi sulla costruzione di una cultura di persone che comprendono e abbracciano un miglioramento continuo il mio intento sbagliato ma speranzoso era che i miei dipendenti potessero vedere questo meraviglioso processo di identificazione degli sprechi e di miglioramento continuo con la stessa eccitazione che avevo io se solo avessero sperimentato il processo lin attraverso i miei occhi sapevo che avrebbero adottato con lo stesso vigore ed entusiasmo il pensiero lin la mia conversazione con il vicepresidente della lexus mi fece rendere conto che la mia comprensione di cosa sia lin e di come funziona era difettosa il problema era la motivazione io ero motivato da imprenditore che voleva vedere la propria attività crescere ed espandersi con successo l'implementazione dei principi lin mi aveva aiutato a raggiungere questo obiettivo di una società ben gestita i miei dipendenti però erano motivati dalle solite cose che consentono alle persone di venire a lavorare come un buon lavoro la busta paga una soddisfazione personale e un senso di cameratismo con altri dipendenti non erano necessariamente motivati dal mio grande business plan ora mi era chiaro che il mio compito principale era quello di tornare a casa e di costruire una cultura del pensiero lin concentrandosi sulla crescita delle persone costruire una cultura lin era il collegamento mancante per me ed è per questo che non riuscivo a far sì che i miglioramenti alla fast cap divenessero permanenti è il motivo per cui mi sembrava di spingere un treno lin consiste nella costruzione di una cultura di miglioramento continuo e non nell'organizzare eventi lin come per ogni altro aspetto dell'automiglioramento la parte più difficile non sta nell'imparare come farlo la parte più difficile sta nel cambiare la cultura lo stile di vita in modo che il progresso sia un corso continuo e permanente tutti noi conosciamo qualcuno che ha perso peso o ha iniziato una nuova abitudine positiva come l'esercizio la meditazione o la preghiera quotidiana sappiamo anche che un anno dopo molti di questi miglioramenti di vita tendono a svanire siamo creature abitudinarie il cambiamento è un esperimento facile ma una cattiva abitudine è come un'amante gelosa abbandonata che continua a lottare per il nostro ritorno il mio approccio iniziale all'in non è stata un'eccezione non solo ho dovuto incorporare questo nuovo modo di pensare come un cambiamento permanente e progressivo delle abitudini ma avevo bisogno dei miei artigiani dei dipendenti del magazzino degli addetti all'imballaggio e alle spedizioni dei dirigenti d'ufficio e degli amministratori esecutivi per abbracciare questo modo di pensare non ero sicuro di come lo avrei dovuto realizzare ma quello che è accaduto dopo questo pellegrinaggio giapponese mi ha puntato nella giusta direzione il pensiero chiave il nocciolo di lean è tutto sul processo di far crescere le persone elenca cinque cose che fai attualmente per far crescere le persone su cui hai influenza e poi elenca una cosa che comincerai a fare da domani per far crescere le persone capitolo 7 pensiamo come la hoax dopo aver lasciato la lexus la nostra prossima fermata fu la hoax una società specializzata nella realizzazione di circuiti elettronici brad ci disse che di tutte le aziende che avremmo visitato nel nostro tour del giappone hoax sarebbe stato il modello ultimo di come il pensiero lean possa trasformare un'impresa con 100 milioni di dollari all'anno in vendite hoax è in realtà considerato una piccola impresa situata nella parte meridionale del giappone la hoax è la storia ispiratrice di successo di un'azienda che ha sfidato tutte le probabilità con una perdita annuale di 10 milioni di dollari per un profitto annuo di 10 milioni di dollari come attraverso una strategia lean intendo una cultura lean non vedevo l'ora di fare questa visita e di apprendere da qualcuno che dall'orlo del fallimento era giunto a un successo straordinario arrivammo alle 7 del mattino con vestiti business casual e sicuri di ricevere lo stesso trattamento regale che avevamo ricevuto da lexus ci fermammo in attesa della conferenza e del tour il presidente il signor manabe salutò ciascuno di noi con una spazzola e un secchio poi gesticolando ci fece capire che dovevamo metterci a carponi insieme agli altri dirigenti aziendali sulle nostre mani e sulle ginocchia ovviamente per lavare il pavimento ora questo era un nuovo livello di link non avevo mai visto prima e come potete immaginare eravamo rimasti tutti un po sconvolti il presidente della hoax stava per dimostrare per noi uno dei principi fondamentali di lean che sono le 5 s prima devo fare un'introduzione molto veloce esistono 5 principi di lean che vengono insegnati ai dirigenti aziendali queste cose chiamate le 5 s di lean sono un punto di partenza fondamentale per chi sta cominciando a pensare lean le 5 s sono la prima è sort separare ordina tutto e rimuovi ciò che non è necessario per il lavoro a portata di mano e sbarazzati di tutto il ciarpame e la spazzatura il secondo è straighten raddrizzare questo è un metodo per dare priorità e organizzare gli strumenti e le risorse per l'efficienza in modo che i dipendenti possano accedere facilmente ai loro strumenti e ai materiali il terzo è shine lucidare un ambiente pulito migliora il morale e rende molto facile identificare il deterioramento e o il malfunzionamento di un'apparecchiatura il quarto è standardize standardizzare questo comporta la costruzione di un consenso sul posto di lavoro per quanto riguarda le migliori pratiche in modo che tutti capiscono cosa aspettarsi e che cosa ci si aspetta da loro il quinto è sustain sostenere trovare modi per mantenere i cambiamenti in atto è più facile di quanto pensi se tutto quanto ha un posto e ogni posto ha una cosa voglio dire tutto anche il sale e il pepe torniamo di nuovo alla storia del nostro tour alla hoax eravamo tutti sulle nostre mani e sulle ginocchia che pulivamo il pavimento con il presidente della hoax e gli altri dirigenti il presidente il direttore signor emoto ci dissero com'erano le cose nei giorni bui quando la loro società era prossima al fallimento la sua decisione di costruire una cultura lean era l'ultimo sforzo per salvare la società sentendosi sopraffatto dai cinque s decise di implementarne in solo tre sweep spazzare sort separare e standardize standardizzare quest'uomo aveva veramente il dono di semplificare le cose comprese che se rendeva semplice le cose semplici c'era una possibilità molto maggiore che la gente comprenda e implementi le idee le cinque s erano divenute tre s ogni mattina alle sette i suoi dipendenti si presentavano per spazzare separare e standardizzare e lo facevano senza paga perché erano motivati a salvare la compagnia nel processo di impegnarsi in queste tre s si creò un legame particolare tra i dipendenti della società i tre s erano semplici e risultati abbastanza soddisfacenti al punto che cominciò a diffondersi un senso di realizzazione e di compartecipazione il presidente della hoax aveva imparato lean e cominciò ad applicarlo nel modo più semplice che sapeva dimostrò che un piccolo miglioramento anche i passi più piccoli verso il miglioramento possano pagare in grandi modi quello che fece presa sui dipendenti era una sorta di effetto composto mentre spazzavano ordinavano e standardizzavano scaricarono montagne di rifiuti che abbassavano la loro produttività ci mostrarono immagini di tavoli sedie e attrezzature in eccesso che erano stati rimossi da tutte le aree di lavoro montagne di rifiuti che hanno riempito il loro intero parcheggio il fatturato che da 10 milioni di dollari nel rosso arrivò a 10 milioni di dollari di profitto non è niente di miracoloso ma è avvenuto come risultato di un piano super semplice di attuazione di tre delle cinque esse lo slancio divenne coinvolgente e tutti cominciarono a portare in sé un senso di orgoglio perché sapevano che era fondamentale per la sopravvivenza della loro azienda e parte integrante del loro successo futuro la dirigenza indossava la stessa uniforme lavava gli stessi piani e lavorava le stesse scrivanie rialzate come tutti gli altri tutti erano rispettati e trattati allo stesso modo ognuno era impegnato nel miglioramento continuo che portò più idee e più impegno ogni mattina prima di cominciare a lavorare tutta l'azienda praticava le tre esse alle 8 il presidente della società convocava tutti insieme e suonavano una graziosa musica giapponese e facevano esercizi di stretching poi parlava con loro su questioni importanti e principi riguardanti la società e un'ora e mezzo dopo che i dipendenti erano arrivati in azienda tutti cominciavano a lavorare alla produzione effettiva dei prodotti hox anche dopo che la società aveva recuperato i dipendenti della hox praticavano con orgoglio le tre esse quotidianamente è un fatto notevole anche che la hox stava competendo molto bene contro un prodotto comparabile di una società cinese nonostante i costi del personale di hox fossero 17 volte quelli della società cinese una strategia lin fornirà sempre un prodotto più semplice più sicuro e migliore e con impiegati più felici e coinvolti il tempo investito nelle persone e nel loro ambiente di lavoro è fondamentale al successo di lean hox è un esempio brillante di questa etica e hanno goduto del successo che viene con la disciplina per sostenere ciò in cui credono ci sono molte altre cose memorabili che abbiamo visto alla hox la cosa più sorprendente era che tutto era su ruote incluse le scrivanie tutti i loro banchi sono stati fatti da un tubo gemba che significa piano di lavoro che ha reso un tavolo più semplice e flessibile che era molto più alto un'altra caratteristica straordinaria di queste scrivanie era che nessuno era seduto tutti stavano in piedi c'erano alcune sedi intorno ma nessuno le usava tutto era etichettato e delineato e voglio dire tutto compresi tutti gli interruttori della luce e l'orologio era incredibile il senso dell'ordine della disciplina nulla che abbia mai visto in vita mia dopo una lunga visita attraverso la loro struttura che ci lasciò a bocca aperta e una conferenza di due ore del presidente della hox mi avvicinai a lui proprio come avevo fatto con il vice presidente della lexus gli chiesi cosa succede quando altre aziende come la nissan la ford la chrysler e altre aziende giapponesi vengono a vedere cosa realizzato la sua azienda lui mi guardò e disse paul le persone intelligenti non possono credere che possa essere così semplice ecco davanti a me in tinte nitide la lezione da portare a casa per la battaglia che stavo combattendo nella fast cup se ti senti come se stessi spingendo un treno o come se stessi girando gli ingranaggi cercando di far funzionare lean allora stai sbagliando tutto lean è fondamentalmente semplice potrai aumentare drasticamente le probabilità di fallimento se lo rendi troppo complicato non è quel labirinto di complessi grafici e di diagrammi di flusso che i consulenti di oggi tentano di improrre alle aziende infatti il presidente di hox aveva ridotto il concetto lean dalle 5s a 3s in modo che il 100% delle persone potesse capirlo e raggiungere gli obiettivi un approccio coerente e disciplinato al miglioramento continuo è la benzina che fa funzionare il motore il presidente della hox ha reso la sua struttura facile da capire attraverso forti controlli visivi ha immediatamente coinvolto i dipendenti nel processo di ordinamento e organizzazione del proprio posto di lavoro e alla fine il risultato è stato la sopravvivenza e la prosperità della sua azienda questo avvenne perché ha creato una cultura di miglioramento usando le 3s come quadro per il successo il direttore generale di fasca john lucier mi aveva accompagnato in questo secondo viaggio in soluzione abbiamo subito iniziato a pianificare e strategizzare ora capì che dovevamo portare fasca dal tenere eventi lean a costruire una cultura lean come avremmo potuto costruire una cultura lean a bellingham nello stato di washington come avremmo potuto ricreare la cultura hox a fasca uno dei nostri obiettivi era quello di diventare come hox entro un anno eravamo stati anni luce e lontani da questo obiettivo ma credevamo che con una nuova focalizzazione sulla cultura della costruzione tutto era possibile questo solleva la prossima domanda e l'argomento del prossimo capitolo come si costruisce una cultura lean l'idea chiave le persone intelligenti non possono credere che sia così semplice quali sono le cose che ha reso troppo complicate elenca le tre cose che devi semplificare affinché il tuo team abbia successo capitolo 8 costruiamo una cultura lean spero che a questo punto abbia dimostrato come il pensiero lean possa trasformare un'azienda e una casa a questo punto dovresti avere un senso che lean si concentra sui concetti di eliminare gli sprechi attraverso un continuo miglioramento e che tutto comincia con la semplice domanda che cosa mi dà fastidio ho anche discusso di come lean può diventare una faticacia quando ci si concentra solo sul processo invece che sulle persone in realtà io credo che questo sia il punto in cui la maggior parte delle persone rinuncia all'in per il 90 per cento sono focalizzate sui processi e per il 10 per cento sulle persone quando in realtà dovrebbe essere al 100 per cento il contrario ero tornato dal mio secondo viaggio in giappone con la chiara convinzione che affinché lean funzioni nel lungo termine metta le radici avrei dovuto costruire una cultura lean senza dubbio questa è la sfida più grande come si fa a costruire una cultura di continuo miglioramento come si fa a convincere la gente a cercare di continuo modi per migliorare beh devo ammettere che ero ignorante su questa materia come tutti gli altri avevo visto una vetrina scintillante della cultura lean alla hoax e volevo che la mia azienda fosse uguale sapevo che doveva essere qualcosa di semplice in modo che tutti alla fascap dal laboratorio all'amministrazione potessero abbracciare lean sapevo anche che doveva essere sostenibile qualcosa che avrebbe potuto diventare un modo naturale di pensare che avrebbe sostenuto e anche rinforzato il modo di pensare sia dell'azienda che dei dipendenti i nostri modi di pensare erano semplici volevamo un continuo miglioramento puntare sulla qualità e l'eliminazione degli sprechi in ogni momento cominciamo l'impresa imitando quello che avevamo visto alla hoax e cominciamo con quello che noi chiamiamo il meeting mattutino ogni mattina alle 8 dedicamo un breve tempo tra i 5 e 10 minuti per riunirci prima che cominciasse il lavoro produttivo cominciavamo con le cose più elementari come leggere a voce alta i dati di vendita del giorno prima e analizzando gli errori che avevamo fatto il giorno prima discutevamo su come prevenire quegli errori e quali nuovi processi potevano essere valutati per fare miglioramenti infine analizzavamo i nuovi processi introdotti il giorno precedente e valutavamo l'efficacia di quei nuovi metodi queste erano le tre o quattro cose che facevamo in modo sistematico tutti i giorni quindi ebbiamo un'idea mia moglie lian si rese conto di quanto ci avessero influenzato i libri di automiglioramento noi leggevamo di continuo i vari libri che uscivano sul mercato e ogni giorno cercavamo di trovare il tempo per discuterne di solito erano libri di business di automiglioramento o di storia il nostro direttore generale john era anche lui un avido lettore e noi tre parlavamo spesso tra di noi rivedendo ciò che avevamo imparato e ciò che ci era piaciuto o meno di ogni libro alcuni tra i nostri preferiti erano good to be great build to last successful habits of visionary companies di jim collins e ci piace anche built from scratch the home depot story sono dei libri che sono disponibili solamente in inglese e da leader aziendali leggere e discutere sui principi da questi best seller ci diede un punto di riferimento per risolvere i problemi ci venne in che forse coinvolgere l'intera azienda nella lettura di questi libri avrebbe contribuito a creare una prospettiva comune alla fine dei conti stavamo cercando di creare una cultura di risoluzione dei problemi infatti il mio obiettivo era quello di creare una cultura assieme ai migliori risolutori di problemi del mondo quindi aveva senso condividere quelle parole di saggezza che venivano ad alcuni dei leader aziendali più visionari del mondo pensavamo che avrebbero dovuto essere condivisi con tutti nella fast cap così abbiamo incorporato un po di lettura ad alta voce di questi grandi libri durante la riunione mattutina discutevamo i punti salienti in cui ci eravamo imbattuti e aprivamo il piano per la discussione o per commenti sebbene leggevamo solo due o tre pagine nel giorno ci impegniamo ad applicare questo concetto di imparare insieme in questo modo abbiamo letto tantissimi libri tra i preferiti vienano riving fans fans catenati e the purple cow che la mucca viola eravamo determinati nel nostro impegno verso questo processo e di conseguenza consentì a tutti i nostri dipendenti di essere sulla stessa lunghezza d'onda con il nostro gruppo dirigenziale il nostro incontro mattutino si era evoluto da appena 5 o 10 minuti fino a 30 a 45 minuti in cui analizzavamo le cifre delle vendite gli errori i miglioramenti e condividevamo un paio di pagine di un libro per stimolare la riflessione e la discussione in poco tempo i nostri dipendenti cominciarono a pensare allo stesso modo nostro e finalmente eravamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda stavamo introducendo i nostri dipendenti a idee di classe mondiale e di leader innovativi nel mondo degli affari in seguito passammo da questi libri di automiglioramento e di gestione d'impresa a libri di storia io amo la storia perciò cominciai a incoraggiare le nostre persone a considerare le cose da una prospettiva storica come aveva fatto la gente in passato a risolvere i problemi quali erano stati fattori che avevano considerato prima di aver risolto il problema questo tipo di pensiero critico divenne parte integrante nella costruzione di una cultura di miglioramento continuo i primi tre mesi furono molto difficili era come tirare fuori un ragno dal buco per mantenere tutti entusiasti o perlomeno interessati non riuscivamo a far sposare a tutti il pensiero e alcuni pensavano che forse eravamo un pochino pazzi perché stavamo sprecando le prime ore del mattino senza produrre niente perché stavamo in piedi in un cerchio in questa folle riunione mattutina ma dopo tre mesi le cose cominciarono a sembrare abbastanza positive e dopo sei mesi perché non ci arrendemmo proprio come in una buona dieta le cose cominciarono a funzionare molto meglio dopo un anno eravamo tutti entusiasti insomma avevamo puntato i nostri soldi sul cavallo giusto non stavamo parlando solamente di miglioramento continuo ma lo stavamo anche insegnando ogni giorno alla gente in modo pratico nel corso del primo anno in cui l'avevamo implementata la riunione mattutina si sviluppò e si trasformò continuamente in meglio dopo il primo anno ora che la riunione mattutina funzionava alla perfezione implementammo un altro significativo miglioramento la riunione era sempre condotta da me o da john il mio direttore generale con l'aumentare dei risultati dell'azienda il nostro tempo era sempre più limitato e c'erano volte in cui nessuno di noi poteva essere lì a causa dei nostri viaggi di lavoro era molto difficile mantenere l'efficacia della riunione durante la nostra assenza allora decidemmo che dovevamo insegnare a tutti quanti come condurre una riunione e qual era il modo migliore se non farlo fare proprio a loro ora stavamo davvero cominciando a razzolare come predicavamo decidemmo che non solo qualcun altro avrebbe condotto la riunione in nostra assenza ma ogni giorno avremmo ruotato i compiti del leader mattutino tra i nostri dipendenti ogni giorno una persona diversa sarebbe stato il conduttore della riunione e a questo punto non solo stavamo insegnando alle persone il miglioramento continuo ma le stavamo anche addestrando a diventare dei leader avevamo preso persone che erano estremamente timide che non avrebbero mai parlato davanti a un gruppo di persone e le avevamo fatte crescere e istruite a fare qualcosa che non avevano mai pensato di poter fare credi forse che si sentissero soddisfatti di se stessi ebbene sì erano entusiasti di se stessi perché non solo venivano a lavorare ogni giorno e vedevano miglioramenti personali ma oltretutto vedevano miglioramenti nel loro ambiente di lavoro e nel loro lavoro stesso e questo è l'inizio di come abbiamo costruito una cultura di miglioramento continuo alla FASCAP creiamo e sviluppiamo leader ogni giorno e durante questa grande curva nella nostra cultura aziendale il mio amico Jeff Kass che stava anche lui costruendo una cultura Lean nella sua azienda mi diede un prezioso consiglio mi disse Paul se vuoi che la tua gente passi al livello successivo inizi ad aprire le porte della tua azienda a visite guidate mi appariva una vera e propria sfida siamo abbastanza bravi al punto che altri ci vedano come un esempio di Lean in azione e Jeff disse quando sei tutto il tempo sotto i riflettori e persone vengono da fuori a guardare ciò che stai facendo la tua gente naturalmente vorrà dare il meglio automaticamente diventeranno sempre migliori quindi abbiamo iniziato ad invitare e accogliere altre aziende per visitare la nostra struttura quale modo migliore per mostrare loro i nostri continui sforzi di miglioramento questo dimostrò di avere altri vantaggi che non mi sarei aspettato mai la nostra gente si sentiva bene per il fatto che altre persone volevano vedere cosa stavano facendo la cosa principale che ho scoperto del comportamento umano è che tutti vogliono nella propria vita riconoscere e raccontare che stanno facendo un buon lavoro invitando gli altri a venire a osservare la nostra compagnia stavamo dicendo al mondo guarda che grandi cose facciamo era come mettere il tuo miglior progetto in mostra per i giudici del premio per l'azienda dell'anno nel creare un ambiente da visita nella fast cap stavamo comunicando alla nostra gente che stavano facendo un lavoro eccezionale perché persone provenienti da tutto il mondo stavano cominciando a visitare le nostre strutture abbiamo anche ricevuto dignitari e politici di alto livello che sono venuti a vedere che cosa stavamo facendo perché perché stavamo offrendo risultati eccezionali alla fast cap non abbiamo mai licenziato nessuno né tagliato i salari nella paga oraria e nonostante di recente ci sia stata la crisi economica più grande degli ultimi cento anni abbiamo sempre continuato ad espandere la nostra attività facciamo affari in più di 40 paesi siamo una società altamente redditizia e i nostri dipendenti a tutti i livelli hanno gli stipendi migliori nella nostra regione abbiamo molto da essere orgogliosi e talvolta nella nostra ricerca di un miglioramento continuo ce ne dimentichiamo il nostro successo è dovuto all'enfasi che poniamo sulla costruzione di una cultura di persone in crescita non si tratta solo di parlare spendendo migliaia di dollari ogni giorno nella formazione e nell'insegnamento per i nostri dipendenti questo è davvero quello che si dice puntare sul cavallo giusto le persone che visitano la nostra fabbrica ci chiedono che cosa fate per l'orientamento dei nuovi dipendenti la nostra risposta è ogni persona è orientata ogni giorno che viene a lavorare la maggior parte delle aziende rivede il nuovo manuale dei dipendenti e lo riesamina per una o due settimane e poi il 90 per cento di esso viene dimenticato in fast cap esaminiamo i nostri 13 obiettivi i 20 principi gli infiniti miglioramenti centinaia di prodotti ogni errore ogni risposta che riceviamo da clienti soddisfatti storia cultura costituzione ogni giorno abbiamo costruito questa cultura investendo tempo e denaro nella formazione e insegnando alla nostra gente il valore e le ricompense del miglioramento per tornare a quello che mi ha detto il vice presidente della lexus per ogni azienda di carattere mondiale la cosa più importante è l'insegnamento e la formazione delle persone in ultima analisi alla fast cap il titolo di lavoro di ciascuno di noi è ingegnere di processi il nostro compito non è quello di costruire prodotti ma di migliorare i processi con cui costruiamo i nostri prodotti questo è ciò che ci rende una cultura distintamente lean l'ordine di questi miglioramenti è altrettanto importante in primo luogo miglioriamo l'individuo poi il processo e il prodotto noi vogliamo dire che alla fast cap siamo nel settore delle persone in crescita il risultato delle persone in crescita è che produciamo prodotti eccezionali lavoriamo in un ambiente innovativo in cui le idee vengono accolte con lo stesso entusiasmo sia che vengano dal dipendente di primo livello sia che vengano dal direttore amministrativo l'aspettativa di ogni persona alla fast cap è che le cose continueranno a migliorare ogni giorno la cultura lo favorisce e lo richiede questo è il modo con cui misuri il tuo progresso nella costruzione di una cultura lean i sorrisi vedrai più sorrisi perché quando tutti sperimentano miglioramenti e lavorano in un ambiente pulito tutti si sentono meglio coltivare la gente per essere al loro meglio prendendo tempo per osservare i risultati ascoltando le idee per migliorare e imparare insieme è il nocciolo della nostra riunione mattutina a cominciare dal dipendente che ha le prime esperienze nel suo primo giorno di lavoro fino a me il proprietario affrontiamo insieme il processo di apprendimento e di miglioramento tutti quanti senza esclusioni sono coinvolti nel processo di un continuo miglioramento ed è così che abbiamo iniziato a costruire una cultura alla fast cap e la riunione del mattino era solo l'inizio l'idea chiave è mostrami il tuo libretto degli assegni e dove spendi i soldi e io ti mostrerò quali sono i tuoi valori lean funziona per te comincia a tracciare come sarebbe la tua riunione mattutina per iniziare bastano solo cinque minuti capitolo 9 oltre la riunione mattutina la riunione del mattino ci aveva permesso di attuare la prima tappa nel costruire una cultura che all insegnamento e la formazione delle persone tuttavia avevamo bisogno di trasmettere l'idea di miglioramento continuo avevamo bisogno che le persone facessero miglioramenti su base giornaliera in modo da poter produrre un prodotto di qualità superiore a un costo inferiore e allo stesso tempo di godere di un senso di realizzazione nell'ambiente di lavoro lean non è solo la crescita delle persone in modo che si sentano tutti felici e coinvolti si tratta anche di risultati risultati misurabili e concreti che mostrano un modello continuo di miglioramento come abbiamo fatto se avessi detto ai miei dipendenti ehi voglio che tu faccia un miglioramento al giorno avrebbero storto il naso la maggior parte avrebbe risposto non so se posso pensare a un miglioramento oggi sembrerebbe proprio una richiesta eccessiva vero così riformulai la richiesta in qualcosa di così semplice ricordate il modello della hoax la bellezza della loro azienda era che avevano mantenuto il loro processo così semplice che assicurava il massimo coinvolgimento delle persone disse ai miei dipendenti dammi solo un miglioramento di due secondi al giorno e questo è tutto questo è tutto quello che chiedo un miglioramento di soli due secondi non c'è una persona sulla terra nemmeno un topo o un criceto che non riesca a capire come migliorare qualcosa per soli due secondi avevo posto un traguardo talmente irraggiungibile che tutti avrebbero potuto raggiungerlo ed è proprio quello che è successo ho cominciato con la semplice aspettativa di un miglioramento di due secondi al giorno tuttavia per poter essere sicuri che le persone capissero come avrebbero potuto trovare un miglioramento di due secondi al giorno siamo arrivati alla fase successiva nella creazione di una cultura di miglioramento continuo e questa nuova fase era il giro mattutino tutti si presentano al lavoro alle 7 del mattino la nostra riunione mattutina va dalle 8 alle 8 e 30 in pratica i miei dipendenti non lavorano nei loro propri posti di lavoro tra le 7 e le 8 quel tempo invece lo riserviamo per le tre s che sono spazzare separare e standardizzare spazzare che vuol dire pulire la propria area separare e ordinare tutto rimuovere tutto ciò che è ausiliario e non necessario per il lavoro specifico e poi standardizzare tutto dedicando quella prima ora alle 3 s ogni persona ha la possibilità di trovare un miglioramento di due secondi riordinare il disordine che si tende a costruire nelle nostre aree di lavoro sarà sempre un certo tipo di migliorata efficienza tutti sanno che hanno almeno un'ora dalle 7 alle 8 per poter fare un piccolo miglioramento nella propria area di influenza o spazio di lavoro al fine di rafforzare quest'idea ho iniziato a camminare ogni giorno intorno alla fabbrica tra i vari dipartimenti salutando le persone dicendo ciao austin quali sono i tuoi miglioramenti per oggi oppure a cosa stai lavorando quando si visita la fasca si dice che questo è il posto più pulito che io abbia mai visto siete dei fanatici il sale e il pepe sono persino etichettati e allineati sul tavolo per il pranzo il nostro secondo passo verso la costruzione di una cultura lean è stato un processo molto semplice che assolutamente tutti potevano abbracciare e parteciparvi l'abbiamo mantenuto molto semplice e siamo sicuri di costruirlo nel giorno lavorativo non esiste un posto nel mondo che non possa trarre vantaggio da un miglioramento di due secondi di recente ho insegnato questo processo di miglioramento dei due secondi agli impiegati del comune di cui sono cittadino la prima settimana tutti quanti sono venuti con miglioramenti alcuni miglioramenti hanno risparmiato ore ogni giorno immagina stavo solo chiedendo due secondi ma la gente stava offrendo ore di miglioramenti e questa è la magia che rende lean semplice quando ho spiegato il secondo miglioramento a harry kenworthy un consulente che ho intervistato sul mio show radiofonico di innovatore americano gli ho chiesto se pensasse che sembrava qualcosa che funzionasse in qualsiasi ambiente mi disse assolutamente e gli dissi beh perché credi che abbia funzionato così bene alla fast cap mi disse è semplice po per fare qualcosa che abbia successo devi prima impostare l'aspettativa ispezionare l'aspettativa e quindi rafforzare l'aspettativa impostare ispezionare e rafforzare l'aspettativa all'inizio non compresi questi tre concetti da una prospettiva di teoria aziendale e non avevo messo in atto il processo con questi passi ma li avevo eseguiti senza neanche saperlo mi aspetto che il mio dipendente faccia un miglioramento di due secondi l'aspettativa è resa chiara assegnato il tempo nella giornata lavorativa per farlo accadere e la camminata del mattino tra i reparti del mattino rafforzava l'aspettativa mentre andavo in giro di tanto in tanto trovo qualcuno che è bloccato e spesso l'aiuto a trovare un miglioramento di due secondi infine rafforzare questo comportamento celebrando i miglioramenti nella riunione del mattino i capi reparto vanno in giro e si fanno mostrare diversi miglioramenti che le persone hanno fatto nella loro area è stata una tecnica molto efficace per costruire una cultura lean in seguito abbiamo fatto un ulteriore passo per festeggiare le idee davvero fantastiche registrandole in video e poi mostrandole durante la riunione del mattino prima di registrare i video tutti i dipendenti andavano in giro per vedere i vari miglioramenti e questo era divenuto un problema logistico perché c'erano tante persone che camminavano in giro e ci voleva troppo tempo inoltre le aree che osservavamo erano generalmente piccole cellule produttive solo le persone di fronte riuscivano a vedere e ascoltare le dimostrazioni nel momento in cui decidemmo di iniziare a catalogare le idee su una videocamera con sorpresa abbiamo scoperto quattro vantaggi il primo è che non dovevamo portare tutta quanta l'azienda in giro da un reparto all'altro come una mandria di bestiame il secondo vantaggio era che tutti potevano vedere chiaramente e ascoltare la dimostrazione guardando il video alla riunione del mattino il terzo vantaggio che era più inaspettato è che la nostra gente cominciò a diventare più abile nel presentare e nel parlare questo gli permese di sviluppare le loro capacità di articolare le proprie idee e di esprimersi davanti alla telecamera che è un'abilità preziosa da avere in questa era il quarto beneficio è che abbiamo sviluppato una potente libreria di video che segnano ad altri i miglioramenti di lean la catalogazione la videografia dei nostri miglioramenti hanno fornito anche un ottimo materiale promozionale le persone che hanno visitato la nostra struttura potranno accedere a queste idee semplicemente visitando il nostro sito web questa caratteristica è diventata uno strumento di insegnamento per l'esterno e ancora una volta la nostra gente è profondamente gratificata dal fatto che persone provenienti dal tutto il mondo stanno visualizzando i loro miglioramenti e apprendendo da loro il mio personale gopa grande obiettivo peloso e ambizioso è quello di cambiare il mondo e come si può vedere la mia gente sta facendo proprio questo il cammino di miglioramento del mattino è diventato il secondo aspetto importante per costruire una cultura di miglioramento continua e ha dato molti miglioramenti rispetto a quanto ci aspettavamo questa tuttavia è la natura del pensiero lean i suoi vantaggi continuano a dare risultati ora immagino che ti starei chiedendo paul fai questo ogni giorno e la risposta è sì lo facciamo ogni giorno da più di cinque anni e non ci manca mai fa parte della nostra cultura è più importante che costruire articoli o strumenti per la lavorazione del legno o qualsiasi altra cosa che facciamo perché sappiamo se abbiamo risolutori di problemi di classe mondiali non importa ciò che stiamo costruendo oggi o tra cinque anni avremo la capacità di fare un ottimo lavoro qualsiasi cosa sia posta davanti a noi il problema più grande che molti hanno con l'idea di lasciare che la gente faccia un miglioramento di due secondi sta nel non fidarsi che possano sbagliare qualcosa o che possano peggiorare il processo la risposta è che lo faranno faranno degli errori e diventeranno migliori soluzioni problematiche nel processo per fare correttamente l'in devi credere che il sistema produrrà il risultato desiderato anche se ti imbatti in un ostacolo lungo il cammino il primo modo con cui le persone imparano è attraverso gli errori se privi la tua cultura di questa esperienza ti priverai di innumerevoli innovazioni che potrebbero attenderti ricordati stiamo cercando piccoli miglioramenti quindi gli errori dovrebbero essere anche piccoli ogni errore e ogni miglioramento diventeranno una parte preziosa nel costruire una cultura di miglioramento continuo l'idea chiave di questo nono capitolo è due secondi cambieranno il mondo scrivi i primi dieci miglioramenti di due secondi e ricorda il punto migliore per cominciare è che cosa ti dà fastidio capitolo 10 facciamolo nel bagno alla fastcap ci divertiamo molto una delle cose più divertenti accade durante le escursioni mattutine che offriamo ai visitatori esterni dopo che hanno la possibilità di vedere la nostra azienda in azione durante la riunione del mattino e il cammino del miglioramento le persone chiedono sempre come faccio ad iniziare sembra così travolgente a questo punto gli dico o è davvero semplice e poi li conduco in uno dei nostri cinque bagni apro la porta e dico vai qui e ti mostrerò come cominci a costruire una cultura di miglioramento continuo mi guardano come fossi pazzo e mi rispondono davvero veramente vuoi che io impari a fare questo camminando nel tuo bagno e gli rispondo con orgoglio abbiamo i bagni più puliti del mondo tutti i nostri bagni sono identici perché il nostro bagno è lo standard di quello che pensiamo l'in dovrebbe apparire nel resto della nostra struttura abbiamo creato uno standard che tutti possono capire con facilità dopo tutto il bagno è un'esperienza che unisce tutti noi e la maggior parte di noi lo vedrà almeno tre o quattro volte al giorno durante le nostre ore di lavoro quando diciamo che tutto dovrebbe apparire come il bagno la gente sa esattamente di che cosa stiamo parlando ora lasciatemi dire com'è il nostro bagno ogni bagno ha un scaffale in acciaio inox con tutto il materiale necessario per le pulizie detergente per i vetri le salviette soluzione salina praticamente tutto quello che usiamo ogni giorno per mantenere i nostri bagni e tenerli puliti quando abbiamo iniziato la trasformazione dei bagni una cosa che abbiamo notato è che avevamo diversi tipi di detergenti e diverse metodologie per pulire il bagno questo non era un processo standardizzato alcune persone preferivano windex che in italia si chiama glassex altre preferivano 409 che un altro detergente avevamo una varietà di diversi tipi di detergenti e di processi per pulire il bagno che è assolutamente l'antitesi di lean ricordate le tre s che avevamo imparato da hoax spazzare separare e standardizzare stare dietro al detergente preferito da tutti è una follia e aggiunge troppa complessità un compito che dovrebbe essere estremamente semplice ora tutto quanto è standardizzato sulla porta di ogni bagno c'è una scheda in laminato plastico che presenta le sei tappe necessarie per pulire il bagno e un'immagine della persona che è responsabile della pulizia del bagno in quel giorno alla fast cap tutti quanti puliscono i bagni compreso paul i bagni rimangono perfetti per tutto il giorno perché una componente conseguente di lean è il rispetto per le persone e lasciare il bagno più pulito di quanto si sia trovato è un segno molto fondamentale di rispetto e di cortesia per gli altri il sedile del gabinetto è abbassato non c'è pipì sulla toilette nessuna goccia d'acqua sullo specchio e il lavandino è pulito questo è il modo in cui ognuno dei nostri bagni viene lasciato tutto il giorno lo giuro non sto esagerando potete entrare in uno dei nostri bagni qualsiasi in qualsiasi momento della giornata e appariranno identici a quello che sembravano la mattina prima di essere puliti il motivo è perché ci sono tre principi in gioco primo lascia tutto quanto meglio di quanto lo trovi quando è così tutto migliora continuamente il secondo principio è rispetto per le persone cose semplici come lasciare la sedia del gabinetto abbassata sono segni di cortesia di base che dimostra il rispetto per gli altri quando lasci tutto quanto meglio di quanto l'hai trovato stai pulendo automaticamente e rendi le cose migliori per gli altri il che è un segno di rispetto per le altre persone il terzo principio è che crea uno standard accessibile a tutti abbiamo creato il nostro standard usando un modello fondamentale che tutti quanti possono osservare il bagno il bagno è visivo è facile da capire qual è il posto migliore per iniziare a costruire una cultura di miglioramento continuo se non proprio il bagno primo lasciate tutto meglio di quanto lo avete trovato secondo rispetto delle persone e terzo creare uno standard il mio consiglio per coloro che vogliono creare una cultura lean è quello di iniziare in bagno e rimetterlo lentamente da lì vai avanti fallo nel bagno costruire una cultura lean richiede standardizzazione e semplificazione di tutto ci siamo accordati sul windex per pulire i vetri ma non solo perché io sono greco e tutti quanti greci sanno che windex potrà guarire e pulire ogni cosa e se non capisci questa battuta guarda il film il mio grosso grasso matrimonio greco è una battuta in voga la fast cup se tutto quanto il resto fallisce tira fuori il windex paul ama il windex quindi usiamo windex sulle superfici del bagno sui nostri piani sui tavoli da lavoro e sulle tavole da pranzo abbiamo un detergente che funziona bene su tutte quanti le superfici e questo è solo un esempio di perché il bagno è stato creato come un eccellente modello di standardizzazione e di semplificazione tornando alle 3s è spazzato e pulito in modo molto semplice è separato ordinato abbiamo eliminato tutti i prodotti su fairflui ed è standardizzato usiamo lo stesso prodotto e la stessa lista di controllo in tutti quanti i bagni l'idea chiave di questo decimo capitolo è l'in inizia nel bagno e il consiglio è applicate questi concetti nel vostro bagno di casa in ufficio e l'in comincerà anche per voi essere un'abitudine regolare capitolo 11 come comincio alcuni di voi senza dubbio saranno rimasti delusi sicuramente la teoria aziendale di classe mondiale della produzione lean insegnata nei programmi mba e nelle più famose scuole di business in tutto il mondo non possono essere ridotte a qualcosa di divertente semplice da fare e da implementare ho condiviso con te come lean abbia salvato aziende dall'orlo del fallimento e le abbia trasformate in ingranaggi di profitto da svariati milioni di dollari ho anche raccontato di aziende come la mia che avevano un notevole successo già prima di implementare lean e avevano tutti quanti gli elementi di grandezza e che ancora lean ebbe un effetto trasformante sui nostri risultati e sulle nostre persone ora ti chiedo di considerare lean pensando non solo ai tuoi affari ma anche alla tua vita personale membri del mio gruppo raccontano di come abbiano applicato i principi lean per interagire con gli insegnanti dei loro figli con i broker immobiliari e tutti quanti i tipi di contatti che incontrano nella vita quotidiana invece della consueta tradizione di vergogna e di colpa la nostra gente chiede naturalmente come posso migliorare questo come posso farlo meglio la persona media non è abituata a questo livello di positività e i pensatori lean sono persone positive e che sanno dove vanno i pensatori lean esercitano la giustizia e non accettano la risposta tipica di no non credo che possiamo farlo invece dobbiamo migliorare il processo e trovare un modo migliore per fare le cose fatevi rassicurare se l'implementazione di lean fosse un processo complicato allora non scriverei questo libro io sono un imprenditore energico con poca pazienza per esercizi accademici per istruzioni tecniche o qualsiasi tipo di piano che richieda una noiosa micro gestione il mio obiettivo è quello di spiegarlo a quante più persone possibile e guardare l'onda di miglioramento che prende piede nelle nostre aziende nelle nostre comunità e nelle relazioni all'interno delle nostre case la tua attività e la tua vita personale possono migliorare radicalmente e migliorando sempre di più mettendo in azione il desiderio semplice e universale per il miglioramento continuo il segreto di corporazioni di classe mondiale come toyota new balance e fasca è che fanno poche cose così bene che nessuno li può catturare è come la famosa storia di irving burling il porcospino e la volpe la volpe è molto intelligente può fare molte cose in modo efficace ma il riccio sa come fare solo poche cose ma veramente bene la costanza del riccio gli permette di buggerare la volpe giorno dopo giorno questa è la bellezza di lean è semplice come si fa a iniziare innanzitutto ti chiedo di fare una piccola ricerca per familiarizzare con quello che sembra una società lean abbiamo un sito incredibile su fastcap.com fai clic sulla scheda video nella schermata iniziale troverai video su tutto quello di cui ho parlato la storia e in questi video c'è la storia della nostra azienda il giro mattutino la riunione del mattino e quella che è la mia preferita la mia scrivania lean inizia a guardare i video immergerti nell'energia di cui godiamo alla fastcap. La seconda cosa che devi fare è fare una visita abbiamo tentato di rendere il tour quanto più possibile disponibile attraverso il nostro sito web rendendo il più possibile lean ma ci sono grandi vantaggi a fare una visita di persona se ti è mai possibile prenditi il tempo e lo sforzo di visitare una società lean per avere un senso dell'autenticità e del potere di una cultura lean non c'è nulla che possa sostituire l'interazione in carne e ossa con le persone in loco. Alcune delle mie preferite sono Cass Taylor che è gestita dal mio amico Jeff Cass a Everett Washington e la società di Carl Wallenstein la Vipco a Providence Rhode Island. Se sei a Bellingham Washington ti invitiamo a visitarci alla fastcap. Per chi non può andare in Giappone a visitare la Toyota negli Stati Uniti c'è una fabbrica a Lexington nel Kentucky. Hanno un tour favoloso che è mozzafiato. Ci sono migliaia di aziende in tutto il mondo che offrono questi tour perché parte integrale della cultura lean è il desiderio di rendere il bene. Una volta che si inizia a godere dei frutti di una cultura lean si desidera naturalmente promuoverlo verso gli altri. Questa è una cosa ottima e ti consente di misurare che cosa si stia ottenendo. Porterà sempre un senso di entusiasmo e di eccitazione. Tutti noi amiamo sentirci meglio per i nostri miglioramenti e vedere i risultati fa crescere l'eccitazione. La terza cosa da fare è implementare la riunione del mattino sul posto di lavoro. Questo inizia il processo di inclusione di tutti quanti nel viaggio lean. Le riunioni del mattino hanno l'obiettivo di creare quel senso di attesa per un miglioramento continuo iniziando semplicemente dal chiedere un miglioramento di due secondi da tutti quanti. Il primo compito per il miglioramento sarà il bagno. Pensi che stia scherzando? Il bagno è un semplice primo passo che è visivo e tutti devono usarlo almeno tre volte al giorno. Il giorno dopo, dopo la prima riunione del mattino, cominciate con il giro mattutino per vedere come tutti contribuiscono al processo di miglioramento. Dopo che hai fatto questo per circa un anno e ti senti a proprio agio con la riunione del mattino e con il giro mattutino e dopo aver creato un bagno lean, allora la prossima cosa da prendere in considerazione è di insegnare lean. Apri la tua struttura, scopri altri pensatori lean nella tua comunità e incoraggia la visita reciproca. Quando cominci ad aprire la tua attività, la visita di altri, inizierai a imparare a implementare lean in un modo completamente nuovo. Perché? Perché quando la tua gente riceve i visitatori interessanti a ciò che stanno facendo, prendono un rinnovato senso di orgoglio nel loro lavoro. Questo è il primo beneficio. Quando insegni le cose generalmente devi osservarle più attentamente e questo è il secondo beneficio. Il terzo vantaggio è che la cosa giusta da fare. Aiutare gli altri e restituire è più importante che fare i soldi. Essere guidato da un obiettivo è più potente che essere guidato dal profitto. Trovedrete che le aziende di maggior successo nel mondo hanno bilanciato l'arte di far soldi con il dono di contividere e di aiutare gli altri. L'etica di rendere il bene è fondamentale per diventare un pensatore lean. Quando vai avanti prendi l'ostura gabinetti e diventa un leader lean. L'idea chiave inizia in piccolo e sogna in grande. Capitolo 12. Lean estremo. Non c'è nulla di causale in una cultura lean di successo. L'impegno deve essere del mille per cento. Quando questa inclinazione verso il miglioramento continuo conquista emotivamente la leadership si dice sia lean estremo. Lean estremo è quando la leadership di un'organizzazione è fissata nell'eliminazione dei rifiuti attraverso continui miglioramenti. Siamo in guerra con gli sprechi dice Carl Wadenstein. È una connessione emotiva e intima con il desiderio di vedere qualcosa e tutto con un occhio che punta a semplificare, migliorare e a eliminare gli sprechi. Di recente ho visitato una struttura che aveva praticato lean per tre anni e la cultura si sentiva piatta. Non c'era emozione. I dirigenti avevano deciso di provare lean perché i loro concorrenti stavano praticando lean. Quindi questi dirigenti hanno scaricato il concetto sui loro manager a livello intermedio e gli dissero fate questa cosa lean. Si erano lavati le mani da ogni responsabilità su come attuare i principi lean e si erano impegnati su lean solo a un livello teorico e di conseguenza avevano una cultura piatta e inspiegabile. Certamente stavano facendo miglioramenti, abbiamo visto esempi di applicazione delle 3S, ma era molto diverso dalla passione che avevo visto in aziende giapponesi e in alcune negli Stati Uniti. Un leader deve essere completamente coinvolto con la sua gente nel processo. Altrimenti lean apparirà un'altra moda del momento, un altro strumento aziendale che viene messo da parte quando la direzione torna a casa dalla conferenza aziendale. La maggior parte dei leader fa lean perché pensa di far soldi con questo sistema, ma solo il 2% dei leader lean crea una cultura dinamica, concentrandosi sulle persone in crescita e non sulla teoria. Il lean estremo si sente nel cuore e nella testa. Un grande esempio di lean estremo è una società giapponese chiamata Molten. Mentre stavamo visitando la loro struttura, il presidente ci mostrò una particolare cella di produzione dove stavano tentando di eliminare un sesto di secondo in un processo di un minuto. Rimasi lì con la mia mascella aperta rendendomi conto di quanto ero goffo nell'attuazione di lean. Queste persone inseguivano gli sprechi come il mio cane insegue un gatto. Quando ho chiesto al presidente se era stressato mi ha risposto, se sei giapponese non conosci questa parola. I cinesi sono due giorni da noi in barca e due settimane dagli USA. Se non scendiamo in campo con questo livello di passione non avremo posti di lavoro. Da dove ho tratto questa energia per diventare lean? Presso la fabbrica della Hox in Giappone. Quando ho visto ciò che quell'azienda aveva compiuto contro tutte le probabilità, qualcosa dentro di me si è scatenato come una vita propria. sapevo immediatamente voglio questo per fastcap. Lo spirito, l'energia del luogo mi hanno ispirato a immaginare che la mia azienda potesse arrivare a livelli che non avevo mai pensato possibili. Da quell'esperienza il mio impegno per seguire e aiutare gli altri a vedere il potere di lean non ha mai vacillato ma neanche una volta. Ricorda che la visita alla Hox è avvenuta dopo che mi ero crogiolato nel limbo lean per cinque anni e stavo cercando di capire perché non riuscivo a far vivere lean una vita propria. Se non sei appassionato del miglioramento allora è necessario continuare a studiare, guardare e imparare e provare a piccoli passi finché non inciampi su un filo. Alla fastcap avevamo un dipendente che era più resistente a convertirsi al pensiero lean. Una mattina era stato particolarmente frustrato per tutto il tempo che avevamo passato con la nostra riunione mattutina e con la passeggiata di miglioramento. Paul mi disse non possiamo permetterci di passare tutto questo tempo a migliorare. Abbiamo troppo lavoro da fare e non lo faremo mai. Ho detto siamo una società di grande successo. Sai perché? Miglioramento continuo. Il tuo compito non è quello di produrre fastcaps ma di migliorare il processo di produzione di fastcaps e le tue preoccupazioni sulla produzione si risolveranno da sole. Uno dei miei insegnanti di lean ha avuto una conversazione con un dirigente Toyota su tutta la cattiva pubblicità dalle cause legali accuse di acceleratori bloccati e di freni difettosi. L'esecutivo non ha provato a trovare scuse ma ha semplicemente lamentato che alcune persone di Toyota erano diventate complacenti per il loro successo. avevano perso la loro passione dalla loro guida. Il mio sensei Brad della famosa ditta Brad e John al capitolo 2 descriveva l'effetto di una cultura lean simile ai cavalli selvatici. Giuro che aveva gli occhi che gli brillavano quando la descrisse. Cavalli selvatici liberi dalla paura. Si allontanano da un livello istintivo come se la loro vita dipenda dalla corsa. L'effetto completo della creatività viva nelle persone è altrettanto potente quanto una mandria di cavalli selvaggi. Il trucco naturalmente sta nel mantenere i cavalli in corsa e liberi. Non c'è mai un momento in cui ci si possa adagiare. E questo è l'in estremo. Poco prima che avvenisse la crisi economica del 2008 avevo cominciato a vedere segni inquietanti intorno a me. Vedevo le aziende che erano state molto efficaci e responsabili nei loro rapporti finanziari che cominciavano a sgretolarsi e a cadere. Come sapete la Fascap è fortemente dipendente dall'edilizia e con l'industria immobiliare e bancaria questo è il settore tra i più colpiti dalla recessione. In quel periodo noi stavamo facendo bene. Eravamo in quella che io chiamo la moda pazza lean, il che significa che la nostra morale aziendale era al massimo con grandi profitti, espansione internazionale e un gruppo di dipendenti molto entusiasta. Ogni giorno si verificavano miglioramenti a tutti i livelli. Gli affari registrarono una flessione del 25%. Persone davvero in gamba e uomini d'affari intelligenti chiudevano le loro porte, decisi che quello non era il momento di adagiarsi sulla nostra buona fortuna. Se volevamo sfuggire ai pericoli dell'economia cattiva dovevamo stare attenti e impedire alla recessione di avvicinarsi a noi. Era il momento di impegnarci in una modalità di combattimento. Era il momento di mettere in pratica il lean estremo. Questo è quello che si dice operare da una posizione di forza. Perché dovremmo aspettare i cattivi tempi per metterci in tenuta dal combattimento? Allora riunii i miei dipendenti e cominciai a esplorare con loro idee sul nostro piano di battaglia. Raggiungemmo tre obiettivi. L'obiettivo numero uno era sopravviveremo. L'obiettivo numero due fu non ci saranno licenziamenti né alcuna riduzione di stipendio. Obiettivo numero tre non solo sopravviveremo ma prospereremo attraverso la recessione. Il primo intervento fu quello di scartare il mio progetto di espansione del sogno. Avevo stanziato 5 milioni di dollari per costruire una struttura più nuova e più grande che sarebbe stata un'icona luccicante del nostro successo. Era tristissimo abbandonare questo sogno ma abbiamo deciso che tutti i soldi sarebbero rimasti nelle nostre casse come fondo di riserva. C'erano troppe mine pronte a esplodere nell'economia e qualcuna di loro poteva far saltare in aria tutto. La cosa prudente da fare era risparmiare denaro e non spenderlo. I miei amici e colleghi di affari non potevano credere che avessimo fermato questo progetto a metà strada. La cosa successiva fu di riconoscere anche che con il 25 per cento di declino nel business dovevamo tagliare il nostro budget di un altro 25 per cento. Abbiamo fatto tutti questi tagli senza toccare salari o posti di lavoro. Abbiamo ridotto il nostro budget pubblicitario e di marketing a metà da 500 mila a 250 mila dollari. La maggior parte delle aziende fa il contrario nei momenti negativi perché la saggezza tradizionale è che per rimanere a galla bisogna dedicare una percentuale più elevata del tuo reddito per promuoverti e bombardare aggressivamente i clienti. Abbiamo tagliato la spesa del 25 per cento in ogni reparto. Nessun reparto si sentiva privilegiato o trascurato. Tutti noi abbiamo portato lo stesso peso e questa è una dimostrazione di lean estremo. Anche se eravamo già un modello di azienda lean sapevamo che c'era spreco ovunque ed eravamo determinati a trovarlo. Eravamo impegnati a svolgere la nostra missione di miglioramento continuo su meno risorse per sopravvivere e per prosperare attraverso la prossima tespesta. Ricorda che eravamo già lean folle. Invece di entrare con uno spirito di rassegnazione, per affrontare la cattiva economia abbiamo prestato in avanti determinate a migliorare e fare di più con meno cavalli selvaggi di creatività e innovazione. Proprio come mi aspettavo la nostra determinazione lean si è rivelata grande. Accade qualcosa di miracoloso. La nostra attività non ebbe flessioni. Non perse nemmeno. Ogni reparto trovò modi creativi per ridurre la spesa pur trovando miglioramenti. I miei addetti al marketing hanno creato campagne pubblicitarie migliori, meno costose e più efficaci. Hanno fatto di più con meno soldi. Figurati, da questa esperienza è venuto il motto preferito per la nostra azienda. Il denaro soffoca la creatività. Quando il denaro non è un oggetto, rinunciamo alla risorsa più potente che abbiamo, che sono le nostre idee. È troppo facile gettare i soldi per risolvere problemi e tuttavia vediamo di volta in volta che spesso i soldi creano problemi piuttosto che risolverli. Per esempio, per creare video da pubblicare su internet ci occorreva qualche giorno e credevamo che avevamo bisogno di tutte le attrezzature video e di una videocamera speciale. Questo è stato uno dei più grandi sprechi di denaro che questa compagnia aveva mai fatto. Oggi possiamo costantemente produrre video con 5 scene separate in meno di 5 minuti. Ciò comprende ripresa delle scene, modifica e ridimensionamento delle scene, inserimento delle scene, applicare la musica, aggiunta di titoli e disascalie e poi avviare il caricamento su youtube. Se vuoi vedere come funziona vai ai nostri video lean e guarda come fare un video lean e la revisione delle migliori telecamere per realizzarlo. Direi normalmente che è così facile che un bambino potrebbe farlo, ma i bambini sono fantastici con la tecnologia. Invece dirò che è così facile che lo può fare anche un settantenne con poca o nessuna esperienza tecnologica. In meno di 5 minuti. Dato che pensiamo lean abbiamo rimosso le barriere che in genere bloccano le persone e rendono accessibile a tutti ciò che in apparenza è complesso. Il vero premio l'abbiamo ricevuto quando abbiamo conseguito il nostro terzo obiettivo che era quello di prosperare. Come conseguenza di tante altre imprese nel settore delle costruzioni che chiudono, le attrezzature di fascia alta sono diventate disponibili a prezzi molto inferiori. Acquistando attrezzature a metà del prezzo di mercato e talvolta molto meno ci ha permesso di espandere comodamente il nostro business. A seguito della nostra espansione abbiamo assunto più persone e terminato il 2009 come uno dei nostri anni di maggior successo nel mondo degli affari. Durante la più difficile crisi economica per il nostro settore abbiamo in effetti avuto uno dei nostri anni più redditizi, con più posti di lavoro creati, non meno e con ottimi salari. Questa è la ricompensa che abbiamo avuto per applicare il lean estremo. Noi metteremo in azione tutto ciò che ci si presenta fino a quando ci opporremo alla tentazione di riposare sui nostri allori. L'idea chiave? Siamo in guerra con gli sprechi. Un po' di rabbia e di passione tra i soldati verso il nemico non farà male a nessuno. Capitolo 13 Lean umile Oltre ad avere un impegno emotivo al 100%, un leader lean deve essere umile. Che cosa vuol dire? Lasciami dare un obiettivo tangibile. Impegnati a convalidare, complimentarti e o riconoscere il lavoro dei tuoi dipendenti almeno 10 volte al giorno. Le tue persone dovrebbero essere abituate a sentire cose come questa è una grande idea Bob o Maria apprezzo quanto hai lavorato duramente a questo progetto o in realtà John la tua idea mi piace più di quella mia. Quando l'umiltà diventa un attributo centrale della leadership lean scaturirà un vortice di creatività e di coinvolgimento. Quando c'è una cultura in cui la gente sa che non c'è un ego maniaco responsabile si può cominciare a crescere e a prosperare. Le persone sanno che la leadership è unita nel suo obiettivo di riconoscere agli altri i loro meriti anziché i propri. Non esiste nessuna politica, nessuna gelosia o rivalità perché tutti sanno che saranno riconosciuti per il loro contributo e soprattutto capiscono che il loro compito è quello di riconoscere i contributi degli altri. Una cultura lean è un ambiente generoso, è generoso nel dar credito agli altri, generoso nel rispetto, generoso nell'offerta di idee, di supporto e di aiuto. Il leader lean ha un ego abbastanza forte da sollecitare e accogliere idee da assolutamente ogni persona coinvolta e riconoscerà il contributo di tutti come prezioso. Infatti un leader lean si eccita dalla prospettiva di scatenare tutta quella creatività insolita e il genio di risoluzione di problemi che si trova dormiente nella maggior parte delle organizzazioni. Mentre molte persone saranno timide e non così propositive in un primo momento è un desiderio umano universale di essere convalidati e rispettati. Una volta che ci si abitua alla domanda che cosa ti dà fastidio o come risolvere questo problema ci si può aspettare che un oceano di creatività scorra attraverso la tua organizzazione in un battibaleno. Per un'incredibile coincidenza mentre stavo scrivendo questo capitolo uno dei miei dipendenti, Paolo, mi avvicinò in fabbrica. Notò che avevo presentato un ordine per il materiale sbagliato da utilizzare per uno dei nostri prodotti. Mi disse po' mi stavo chiedendo se volevi ordinare la marca X perché ne avevamo parlato e avevamo detto che quest'altro marchio sarebbe stato probabilmente di qualità superiore. Ho sbattuto la mano sulla mia fronte in riconoscimento e ho detto oh wow ti ringrazio tanto hai proprio ragione. Avevo ancora il tempo di annullare l'ordine errato e di cambiarlo con il materiale corretto. Ringraziai Paolo abbondantemente per aver scoperto il mio errore. Più tardi quel giorno Paolo che è alto 1,95 e un esemplare di perfezione atletica che dovrebbe avere un ego della dimensione del Texas ha fatto un punto di avvicinarmi e dire Paul ho pensato che dovresti sapere che era in realtà Alexei che ha trovato quell'errore. Doveva solo andarsene presto quindi gli dissi che lo avrei riferito io. Volevo solo che tu lo sapessi. Questo è lo spirito di una cultura lean quando il leader è disposto a essere corretto e non ha problemi di ego con la condivisione dei meriti. Lo stesso spirito generoso e sostenuto è vissuto da tutti. In un ambiente meno ospitale Paolo avrebbe brontolato il mio errore scuotendo la testa mentre guardava l'errore portare a più errori e poi dopo che tutta quella energia sprecata avrebbe potuto rimanere soddisfatto dicendo vedi lo sapevo che non avrebbe funzionato. Invece si sentiva completamente a proprio agio esprimendo la sua preoccupazione con me. Inoltre Paolo avrebbe potuto accettare la mia gratitudine felice di ricevere credito ma invece lo ha gentilmente dato a colui a cui apparteneva, a un altro dipendente Alexei. Un altro effetto della leadership humile è che costruisce una cultura che libera le persone dall'ansia o dalla riluttanza a condividere le proprie idee. Il rifiuto non è più un problema perché è perfettamente accettabile lanciare un suggerimento per miglioramenti e poi rendersi conto che forse non è così una grande idea alla fine. Nessuno ha i sentimenti feriti, nessuno sente la pressione di dover essere sempre impeccabile. Possiamo renderci un po' vulnerabili in questo modo perché siamo forti e uniti nel nostro desiderio di migliorare continuamente con l'obiettivo di migliorare la vita del cliente. Non molto tempo fa una squadra di ingegneri e di dirigenti di Bombardier ha recentemente visitato la FASCAP. Uno di loro ha condiviso una storia con me. Aveva partecipato a una festa per un amico suo ingegnere. Dopo che l'ingegnere aveva ricevuto tanti doni e auguri, riflette per un momento sulla sua carriera di trent'anni presso la sua azienda. Con qualche rammarico disse, per trent'anni avevano l'opera delle mie mani. Avrebbero potuto avere il lavoro della mia testa e del mio cuore senza costi aggiuntivi, ma non me l'hanno mai chiesto. I capi Lean estrarranno i doni e le abilità dall'intera persona. Questo è ciò che ho sentito così forte e chiaro dal presidente della Lexus in Giappone tanti anni fa. Disse, la cosa più importante è la nostra gente. Non ci interessa la prossima tecnologia o la prossima strategia di vendita, né il prossimo grande modello. Noi investiamo nella nostra gente. E infine tirerei fuori il meglio che la tua gente può offrire se li avvicini con umiltà e con gratitudine. I leader Lean devono rispettare la loro gente e riconoscere che ogni persona porta sul tavolo il proprio genio unico. Se ci pensi, questo rimuove un sacco di pressione da te come leader. Che sollievo, non dovrei essere più tu a trovare ogni buona idea. Hai un oceano di possibilità e di idee che aspettano solo di essere sfruttate dalle tue persone. Perché mai vorresti ignorare o mettere sullo scaffale la vostra fonte di genio più preziosa? La Leadership Lean offre i migliori prodotti e servizi possibili perché sfrutta il meglio che ogni dipendente ha da offrire, senza gelosia, senza rivalità territoriale e senza retribuzione. Qualcuno mi ha detto che la politica è il nonno spreco. Un grosso spreco che è principalmente guidato dall'egocentrismo. Solo qualcuno con un forte senso di sé può essere un leader Lean. Perché essere umili è un segno di autenticità e di generosità. Alla fine questo libro non è veramente sull'eccellenza Lean o operativa, sui miglioramenti due secondi, su una cultura, sulle tre S o su visite. Si tratta di eccellenza nella Leadership. Quando i leader conducono con principi di classe mondiale applicati con intelligenza, il cielo è il limite. L'idea chiave di questo capitolo è che l'umiltà è la strada verso la grandezza. Capitolo 14 I tre pilastri di Lean Ci sono due motivi principali per cui ho deciso di scrivere questo libro. In primo luogo le persone erano curiose. Volevano visitare Fascap e vedere la nostra cultura Lean nel pieno dell'azione e vedere ulteriori informazioni su come costruire una cultura così insolita. Per cui era abbastanza sensato mettere i miei pensieri su carta e raccontare la nostra storia. Ho voluto condividere il nostro viaggio Lean e le informazioni su come abbiamo implementato Lean per essere più efficaci aiutando altre persone. Il secondo motivo è stato quello di esprimere le mie idee più succintamente su carta e fornire un processo chiaro che è il centro del pensiero Lean. È passato più di un anno e ho molti pensieri su ciò che è passato e sul contenuto del libro. Una cosa è certa, il libro è diventato popolare, piace alla gente, è semplice, è breve e rende il concetto di Lean accessibile a tutti. Volevo che tutti, sia che abbiano una laurea, sia che stanno iniziando una carriera a 18 anni, potessero comprendere, implementare e costruire una cultura Lean. Two Second Lean mi ha dato molta esposizione. Le persone hanno cominciato a chiedermi di venire a parlare presso le loro organizzazioni e le loro aziende in diversi paesi del mondo. Ho cominciato a chiedermi come avrei potuto migliorare il messaggio di Two Second Lean e alla fine sono riuscito a sviluppare i tre pilastri Lean di Paul. Quando andavo nell'impianto di produzione e vedevo i problemi che le persone stavano affrontando, mi venne chiaro che mi mancava qualcosa. Nell'ambiente Lean è molto comune dire che due dei pilastri di Lean sono l'eliminazione degli sprechi e il miglioramento continuo. Io non sono d'accordo. Lean è far sì che le persone vedano gli sprechi. Il primo pilastro di Lean è vedere sprechi. Se non è possibile identificare gli otto sprechi in tutto quello che fai, allora è molto difficile eliminare gli sprechi. Il primo pilastro di Lean è quello di insegnare alla tua gente a vedere gli sprechi. Se stai costruendo una cultura Lean, devi guardare ogni processo e farti la domanda. Quali sono gli otto sprechi e quale si può vedere nel processo che stai facendo adesso? Innanzitutto assicurati che tutti i membri del gruppo conoscano gli otto sprechi come il palmo della loro mano. L'insegnamento degli otto sprechi non viene raggiunto con una presentazione, né con un email o con un seminario. Devi insegnare gli otto sprechi ogni singolo giorno. Alla FASCAP rivediamo gli otto sprechi ogni giorno nella nostra riunione del mattino. Ogni mattina una persona a turno deve contare sulle dita gli otto sprechi e deve raccontare una storia che illustri tutti gli sprechi. Il primo è la sovrapproduzione. La sovrapproduzione è quell'elemento che è poi presente in tutti quanti gli altri sprechi. Il secondo è il trasporto perché i prodotti sovrapprodotti poi devono essere trasportati. Il terzo è l'eccesso di magazzino. Bisogna stoccare tutti questi prodotti sovrapprodotti. Il quarto sono i difetti. Poi abbiamo difetti, dobbiamo rielaborare tutte queste merci sovrapprodotte. Il quinto è la sovraelaborazione. Mentre ripariamo difetti nei nostri prodotti sovrapprodotti dobbiamo applicare la sovraelaborazione. Il sesto è il movimento sprecato. Dobbiamo gestire tutti questi beni sovrapprodotti e sprechiamo quindi il movimento. Il settimo è tempo di attesa. Dobbiamo costringere i nostri clienti ad aspettare mentre sistemiamo i difetti delle merci che avevamo in eccesso. E l'ottavo è il potenziale sprecato. I dipendenti con il loro potenziale di individuare gli sprechi e di creare innovazione invece devono dedicarsi alla risoluzione degli altri sette sprechi che stanno imperversando. Ed ecco i tre pilastri di Paul. Il primo è che ognuno dei 52 membri del team ogni mattina racconta una storia sugli sprechi usando le otto dita. È così profondamente radicato nei nostri membri del team che per loro è molto facile vedere sprechi nei processi di cui si occupano. La prima cosa e la più importante che ho imparato è quello che chiamo il primo pilastro di Lean. Le persone devono vedere gli sprechi. Il secondo pilastro è che ogni persona deve migliorare continuamente tutto. L'essenza di questo libro Two Second Lean sta nel fare piccoli miglioramenti incrementali che rapidamente si accumulano in un significativo corpo di lavoro. Un anno dopo sono 100% convinto di quel concetto, ancora più che mai, perché rende tutto più semplice ed è estremamente semplice. Quindi innanzitutto vedi gli sprechi e secondo tutti migliorano continuamente tutto ogni giorno. Ora il succo delle mie revisioni del libro è legata al primo e al terzo pilastro. Il primo pilastro la gente deve vedere gli sprechi. Era una torsione o un chiarimento a ciò che la maggior parte delle persone considera un pilastro importante del pensiero Lean. Il secondo pilastro è fare piccoli miglioramenti continui a tutto. Il terzo pilastro è probabilmente il più eccezionale di tutti. Questo pilastro è qualcosa che francamente mi ha appreso in controtempo. Non sono riuscito a capire perché abbiamo avuto così successo nel costruire una cultura Lean. Il terzo pilastro di Lean è di fare i video prima e dopo di tutti i miglioramenti. È necessario mostrare l'area di lavoro e il processo prima e dopo. So che stai dicendo che cosa ha a che fare con Lean, Paul? Imparando a vedere gli sprechi ovunque. Quando si sta sviluppando una cultura si vuole documentare lo sviluppo di quella cultura. Farlo in modo divertente, in modo che le persone potranno godere nel vedere il progresso e vorranno partecipare alla festa. Questo aggiunge un'enorme quantità di energia innovativa. Quello che dico alla gente è solo di prendere il tuo iPhone, il tuo smartphone, ogni tipo di videoregistratore, non mi interessa quale, ma non uscire e comprare una videocamera professionale e registrare con la fotocamera che hai in tasca. Non uscire e acquistare software di editing professionale. Non è necessario. Tutto quello che serve è semplicemente un telefono e un'applicazione come iMovie per la modifica del video direttamente sul tuo telefono. Mantieni tutto semplice e fallo. Il migliore esempio che posso dare per realizzare questo concetto è il modo con cui la squadra incredibile di Walters & Wolf lo ha fatto con uno dei primi video chiamati Trasportare la posta. È semplice, divertente, low tech e intellettuale. Questo video è completo e Walters & Wolf sono proprio Lean. Vuoi sapere un segreto? Ho iniziato a fare i video circa 4 anni fa, ma mi ci sono voluti 2 anni per fare il primo video. In altre parole, avrei dovuto fare i video 6 anni fa, ma mi sono paralizzato perché volevo che tutto fosse perfetto. Ho comprato tutti i tipi di attrezzature cinematografiche, illuminazione e software, ma non ho mai fatto un video perché stavo aspettando che tutto fosse perfetto. Poi ho capito la follia di questo. Se lo fai semplicemente, imparerai tantissimo semplicemente facendo. Questa è veramente la storia di 2 second Lean. Se fai un solo piccolo miglioramento, imparerai così tanto che il prossimo miglioramento sarà molto meglio. Ed è la stessa cosa con i video. Basta farlo ora con il telefono in tasca. Fai i video prima e dopo ora. Non spostare una cosa nella zona di lavoro fino a quando non registri a vive tinte il caos in cui stai lavorando adesso. Il video Riformare piccoli Maiali illustra esattamente quello di cui sto parlando. Non cambiare nulla finché non mostri il prima e dopo perché in tal modo vedi chiaramente il contrasto e fai vedere al tuo team il potere di un miglioramento continuo e come diventare un pensatore Lean. Ho iniziato a insegnare a fare questo in varie aziende e i risultati sono stati fenole melali. Era letteralmente come versare la benzina su un falò. Hanno fatto un video e sono stati in grado di mostrarlo in diversi rami e a diversi livelli della loro azienda. Subito dopo hanno fatto un altro video. In poche settimane hanno fatto 40 video. Mi sono reso conto che questa è stata una componente critica. Costruisce una biblioteca dei successi e una biblioteca utile ad addestrare tutti i dipendenti presenti e futuri. E questo è un concetto potentissimo. Una delle ragioni per cui la Fast Cup è decollata con il suo viaggio Lean è perché tutti sono stati così interessati e che abbiamo documentato ciò che stavamo facendo nei nostri video smielati e tutti li amavano. Se ha funzionato così bene per noi perché non insegnare tutti a farlo e farne un pilasso per costruire una cultura Lean? È proprio questo quello che continuo a dire a persone in tutto il mondo. Più lo dico più persone mi guardano e dicono già non avevo mai pensato a questo. È la cosa più logica. Iniziano a farlo e la prossima cosa che accade è che iniziano a collaborare con noi e a inviarci loro video di miglioramento. E noi li mettiamo sul nostro sito web e consente a persone di tutto il mondo di conoscere il modo in cui altre persone stanno facendo le cose. E questa è una notizia eccitante. Un anno e mezzo dopo la pubblicazione del libro il mio insegnamento chiave è i tre pilastri di Lean. Primo vedere gli scarti. Secondo migliorare continuamente tutto ogni giorno. Terzo fare i video prima e dopo. Ancora vi state chiedendo se fare i video o no? Lasciate che vi dica una storia. Ieri ho intervistato due studenti di scuola media. Natalie e Michela del Cornerstone Christian School. Il loro insegnante Darren Klein sta facendo un ottimo lavoro nell'insegnare i concetti Lean ai bambini e costruendo una cultura Lean nella sua classe. I bambini sono una macchina incessante di produzione di video Lean. Stanno facendo tanti video eccellenti sui loro miglioramenti Lean. Vai sul video che cosa è Lean che sta nella sezione Lean Kids del sito fastcap.com. Ho chiesto a Natalie dopo un anno di apprendimento di Lean che cos'è l'unica cosa che potrebbe essere migliorata per far capire meglio Lean ai ragazzi. Mi ha detto mostra più esempi di Lean in azione meno parole e teoria. Non ho altro da aggiungere dalla bocca dei bambini. Quando ho iniziato a scrivere il libro Two Second Lean il mio obiettivo era quello di spiegare come costruire la cultura Lean e come tutti possono farlo in un solo anno invece degli undici che mi sono occorsi. Volevo anche condividere i molti miei errori per risparmiare agli altri dal fare gli stessi. Se avessi avuto le informazioni che ho ora sarebbe stato molto più semplice per me costruire una cultura Lean. So che posso entrare in qualsiasi organizzazione e implementare questi tre pilastri semplici e produrre un impatto significativo in un breve periodo di tempo. L'idea chiave di questo capitolo è impara a vedere gli sprechi e io aggiungerei fai anche i video prima e dopo. Capitolo 15. Domande veramente intelligenti. Uno dei miglioramenti che ho fatto nei miei discorsi pubblici è il risultato di un suggerimento da parte di qualcuno del pubblico. Nella terminologia Lean questo si dice andare sul campo. Sono sempre stato molto a mio agio con le persone che mi interrompono nel mezzo del mio discorso per fare domande ma il suggerimento era quello di dedicare 15 minuti per fare domande alla fine di ogni discorso. Ho iniziato ad attuare questa nuova idea. Ha funzionato così bene che ho deciso di mettere per iscritto le 10 domande che mi vengono chieste più spesso. Alcune di esse potrebbero essere un po' insolite ma è proprio per questo motivo che ritengo opportuno rispondere. Penso che molte persone vorrebbero fare queste domande ma hanno paura di chiederle. Comincerò con la più insolita ma la più comune. Domanda numero 1. Paul cosa pensi riguardo al lusso? Questa è una domanda molto interessante. Penso che venga chiesta perché la gente vede la mia scrivania e si rende conto che non ho un ufficio praticamente e che sono così minimalista nel modo in cui conduco i miei affari. Pensano ehi questo deve essere contrario al lusso. deve essere contrario ad avere qualcosa di bello. Posso assicurarti che niente potrebbe essere più lontano dalla verità. La mia vita è immersa nel lusso. Io posso permettermi dei lussi che la maggior parte delle persone non può perché ho pochissimi sprechi nella mia gestione aziendale. Lean non è un programma di austerità. Lean consiste nell'eliminare le attività a valore aggiunto. Noi chiamiamo questi sprechi. Se per me ha un valore indossare un bellissimo orologio Breitling allora questo per me non è uno spreco e voglio che Breitling continui a fare le sue creazioni artistiche. Se c'è un valore per me nel pilotare il mio aereo in giro per il mondo e questo mi aiuta a fare il mio lavoro in modo più efficace allora questo non è uno spreco. Lean consiste nell'eliminare attività a valore aggiunto. Un bellissimo orologio mi ricorda ogni secondo del valore di un'arte impeccabile e dell'attenzione verso i dettagli. Il mio aereo mi permette di andare ovunque in qualsiasi momento e mi dà il valore della totale flessibilità. Ci potrebbero essere sprechi nel modo in cui faccio manutenzione al mio aereo o nel modo come piloto il mio aereo o le missioni di volo che faccio con il mio aereo. Queste cose sono aperte a revisione e a miglioramenti ma il fatto stesso di avere un aereo o un bello orologio o una bella auto non sono sprechi. Come cliente valuto e stimo i vantaggi che questi oggetti portano con sé. Questi lussi sono il risultato di come gestisco con cura il mio capitale e non mi sento per niente in colpa di averli. Lane non è socialismo ma è un capitalismo pensante. Ovviamente quello che fai con tali oggetti potrebbe avere elementi di spreco ma ricorda è aperto al controllo e al miglioramento da parte del proprietario del lusso e nessun altro. Perché dico questo? Perché tutti noi ricchi o poveri siamo immersi nei rifiuti. Puntare il dito verso qualcun altro non è una cosa gentile da fare e sicuramente non è più produttivo quanto quello di risolvere i propri problemi. Il lusso in sé non è spreco. Io amo il lusso. Ho molte cose belle e posso permettermi molte di quelle cose perché sono un pensatore lean. Sono attento a vedere e a eliminare i rifiuti in ogni angolo. La seconda domanda è avete un ricambio alto o basso dei dipendenti? La risposta è che abbiamo un ricambio di dipendenti molto basso. FastCap è un luogo molto ricercato per lavorare perché le persone si sentono valorizzate. Le loro opinioni, le loro idee sono importanti e nel tentativo di costruire una cultura lean uno dei miei obiettivi era quello di rendere il dipartimento delle risorse umane della nostra azienda molto meno grafosa. Creando un'azienda dinamica saremmo diventati un magnete per il talento anziché dovere cercare i talenti. Lean riduce drasticamente il ricambio dei dipendenti al punto in cui è quasi inesistente. Di rado ci sono dipendenti che se ne vanno. Di solito è perché vanno a scuola per perseguire il loro sogno di diventare medico, avvocato o contabile. Ma il ricambio di dipendenti è estremamente basso perché valorizziamo gli esseri umani e consideriamo le loro opinioni. La terza domanda è ci sono mai persone che non sposano lean e non vogliono cooperare? Certamente all'inizio almeno il 50% delle persone che lavoravano alla FASCAP se ne sono andate o li abbiamo licenziati. Oggi è molto raro che qualcuno non viva la cultura lean e la ragione è duplice. In primo luogo siamo molti attenti al modo con cui assumiamo le persone. Cerchiamo due caratteristiche. Devono essere persone umili e curiose. Vogliamo persone che non agiscano e che fanno sembrare di sapere tutto. Vogliamo gente che sia naturalmente curiosa della vita. Quando in un colloquio qualcuno ci dice tutto quello che sa e non è seriamente incuriosito di ciò che stiamo facendo e del modo di come operiamo come azienda sappiamo che questa persona in realtà non possiede le caratteristiche di cui abbiamo bisogno nei nostri membri del team. Abbiamo bisogno di persone umili e curiose. Ecco perché siamo così attenti nel modo con cui assumiamo. Il secondo motivo è che la nostra cultura è così forte e positiva che ci vogliono solo una settimana o due affinché una persona l'assorba. Quando crei una cultura ferma e coerente allora sarà molto facile per le persone capire il tuo modo di pensare. Ci sarà sempre qualcuno che non vuole abbracciare il modo con cui fai gli affari. All'inizio era difficile ma ora è facile. Uno dei miei detti preferiti è lean è un lavoro duro che rende tutto facile e questo è un dato di fatto. Per capire meglio che cosa sia la nostra cultura vista attraverso gli occhi di una giovane collaboratrice guarda l'intervista con un membro del team di FASCAP che ha 16 anni. La domanda 4 è fai lean a casa tua e com'è casa tua? La risposta è che amo lean. Io miglioro tutto quello che faccio ovunque vado. Se sto in vacanza, in casa, lavoro o sto volando sto costantemente cercando di perfezionare i processi, di eliminare i rifiuti e rendere le cose più semplici. La maggior parte delle persone è un po' sconcertata da qualcuno così fanatico di lean, ma ti posso assicurare che lean porta una grande gioia nella mia vita. Ottengo molto di più di molte persone. Per rispondere a quelli che mi chiedono se faccio lean a casa, ho fatto diversi video che mostrano a casa mia e come ho implementato lean nella mia casa. Uno di questi è lean a casa. Le cose che faccio sono così semplici perché penso in termini lean dovunque vado. Mia moglie e io abbiamo appena trascorso l'intero weekend implementando miglioramenti lean nei nostri armadi. Oggi i nostri armadi sono spaziali. Mia moglie ha un armadio speciale che utilizza per decorazioni per la casa per le diverse stagioni. Ha decorazioni speciali per il 4 di luglio, per primavera, per l'autunno, per il giorno del ringraziamento e per Natale. La casa è sempre molto festosa e meravigliosa e adornata. Il problema era che le sue decorazioni non erano molto ben organizzate. Così ho chiesto come possiamo rendere migliore questo processo. Ho lavorato con mia moglie per due giorni consecutivi e abbiamo reso il ripostiglio più sorprendente. Tutti i suoi arrangiamenti floreali sono stati collocati in modo preciso, le sue corone di fiori le abbiamo appese splendidamente e tutte le diverse candele sono state collocate in scomparti separati. Adesso quando è il momento di decorare la nostra casa è un processo semplice. Mia moglie si diverte e non c'è niente di gravoso. Ecco perché Lean è così bello. Lean prende le cose che traduzionalmente potrebbero essere difficili o ardue e le rende semplici e divertenti. E tu hai l'ulteriore vantaggio di esercitare la tua mente perché diventa un grande gioco su come migliorare tutto quello che fai. L'obiettivo di Lean è quello di non avere noie. Domanda numero 5. Cosa fai con quelli che non seguono e non applicano Lean nel modo con cui fanno il loro lavoro? Gli fai notare i loro sprechi? Questa è forse una delle mie domande preferite perché è una delle più importanti da capire. Tutti noi abbiamo abbastanza sprechi nelle nostre vite che potremmo portarceli per alte 10 vite. Per cui non guardare agli sprechi degli altri ma ai tuoi. Ho sottolineato questo concetto in un modo assai chiaro di recente durante una visita alla nostra azienda. Alcune persone provenienti da un'altra azienda manufatturiera hanno visitato la nostra struttura. Erano nell'area produttiva dell'azienda e al termine della visita uno di loro disse voglio sapere come possiamo implementare Lean in ufficio. Lo guardai e gli chiesi perché sei in ufficio? Pensavo di aver detto che eri in un impianto produttivo. Mi rispose sì ma il nostro ufficio è un disastro. Poi dissi questo è uno dei più grandi errori che avrai mai fatto in tutta la tua vita. Concentrati su di te. Concentrati sull'eliminazione dei tuoi sprechi. Credimi ne hai abbastanza per 10 vite. Quando le persone vedono quanto la tua area sia migliorata quanto è più facile il tuo lavoro quanto più possono dipendere da te quanto sono coerenti e come migliora la qualità del tuo prodotto vorranno sapere come lo stai facendo. Poi potrai mostrargli come e poi saranno ansiosi di imparare e di iniziare il proprio viaggio Lean ma non cercare di prendere tua moglie il tuo cane, il tuo criceto, il tuo gatto o i tuoi colleghi per fare Lean. Concentrati su te stesso. Tu e io abbiamo così tanti scarti. Questo è stato uno dei punti più critici che ho imparato negli ultimi due anni mentre ho parlato con persone e abbiamo visitato impianti di produzione e aziende in tutto il mondo. Concentrati, concentrati e concentrati su te stesso. La sesta domanda è dai incentivi ai tuoi dipendenti per migliorare? All'inizio abbiamo fatto e forse è stato uno dei più grandi errori che abbiamo mai fatto. Da allora abbiamo appreso che Lean è il nostro lavoro. Non è qualcosa che facciamo al di là del nostro lavoro. Il miglioramento continuo è il primo e il più importante lavoro di tutti i giorni della vita. Il primo incentivo per fare i miglioramenti Lean è che la vita continua a migliorare quando stai pensando Lean. Quando abbiamo dato incentivi monetari abbiamo sentito che la gente faceva i miglioramenti solo perché volevano un incentivo di 5 a 10 dollari per ogni miglioramento fatto. Quando abbiamo tolto l'incentivo e detto questo è il tuo lavoro, il tuo lavoro dipende da questo, le persone si resero conto che eravamo seri a proposito di Lean. Le avevamo assunte perché volevamo usare il loro cervello, non solo le loro mani. Questo è molto importante perché la maggior parte delle persone non si sente apprezzata per ciò che contribuisce al lavoro con il loro intelletto. Sentono come se vogliamo che loro costruiscano solo articoli. Allora abbiamo cambiato il paradigma e abbiamo detto il tuo valore è nella tua mente. Quando l'abbiamo fatto le persone hanno cominciato a coinvolgersi a un livello completamente diverso. Il mio modesto parere è che pagare le persone per fare Lean è un errore. Dare incentivi prende il sopravvento su quello che è lo scopo di una società. Lo scopo di una società è quello di migliorare la qualità della vita del cliente, di offrire un valore elevato per il cliente, di togliere le attività che non aggiungono alcun valore e consegnare al cliente il massimo valore possibile costantemente giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quando la fai la tua immagine aumenta all'occhio del tuo cliente e il tuo cliente continua a tornare ancora e ancora e tu fai più soldi. Quando si imposta l'attenzione di ciascun membro del team per migliorare continuamente ogni giorno per il resto della propria vita cambia il paradigma. Toglie l'attenzione da loro stessi e la mette nuovamente sul cliente e libera i membri del team affinché si concentrino sulla collaborazione con gli altri membri del team per fornire più valore al cliente. Il secondo incentivo per fare miglioramenti Lean è quello di guadagnare rispetto dal cliente, dai loro membri del team e da me. Ogni essere umano desidera essere rispettato ma per la maggior parte delle persone questo non succede mai. domanda numero 7. Che cosa succede se non voglio essere efficiente in tutto quello che faccio? A me piace camminare, faccio più esercizio. La mia risposta è che questa è la tua prerogativa. Quello che devi capire è che Lean è un lavoro duro che rende tutto più facile. Un po' di sforzo in più può rendere la tua vita più piacevole. Quando si coniuga il concetto che Lean è un lavoro duro che rende tutto facile con una prospettiva goblale allora saprai perché perseguiamo Lean in un modo così intenso. Sono venuto a sapere che il tempo è il grande equalizzatore sociale. Ogni essere umano ha a disposizione 24 ore al giorno. Tutti noi abbiamo le stesse 24 ore, sia che siamo ricchi o poveri, istruiti o non istruiti. E quello che facciamo in queste 24 ore determina in larga misura il successo e la felicità che godremo nella vita. Se sei un individuo altamente produttivo, che è altamente disciplinato e affidabile per i tuoi membri del team, la tua famiglia e le altre persone con cui lavori, è ovvio che avrai un'esperienza di vita migliore. Se sei una persona improduttiva che non ha molto da fare, non è affidabile per i tuoi membri del team, la tua famiglia e le altre persone con cui lavorate, allora inevitabilmente ci sarà più delusione e più attriti nella tua vita. Lean consente di ottimizzare e di ottenere di più da quelle 24 ore. Quando diventi veramente bravo con Lean e molto competente a vedere gli sprechi, riuscirai a ottenere 48 ore da una giornata di 24. Lo dico con un po' di ironia, ma quelli che visitano la nostra fabbrica rimangono colpiti da un ambiente così positivo quando vedono il modo con cui lavorano i nostri dipendenti, i sorrisi sui loro volti e la collaborazione che esiste tra tutti i nostri membri del team. La mia risposta è che non cambierei i miei dipendenti con nessun altro al mondo. Perché? Perché in sole 8 ore la mia gente fa quello che la maggior parte delle persone fa in 40 ore. La gente ha difficoltà a credere che possiamo essere molto più produttivi. Alla FastCap il lavoro scorre così naturalmente che le persone non faticano per fare il loro lavoro, ma si divertono. Quando fanno il loro lavoro hanno un'energia emotiva e il risultato netto è una produttività significativamente maggiore. Ancora una volta non devi fare Lean, ma ricordati che il tempo è il grande equalizzatore. Quello che fai con quelle 24 ore in larga misura definisce chi sei e la felicità di cui godi ogni giorno della tua vita. Domanda numero 8. Ashley dal Regno Unito ha chiesto Il nostro carico di lavoro è aumentato molto di recente e stiamo lottando con il tempo fisico per fare i miglioramenti, anche quando facciamo gli straordinari. È difficile avere una riunione ogni giorno e stare lì a dire, so che abbiamo avuto questo problema ieri, ma non abbiamo avuto ancora il tempo di sistemarlo. I miei dipendenti stanno concentrando la propria attenzione sui modi e affrontando alcune ottime idee di miglioramento, ma l'elenco dei possibili miglioramenti sta cominciando ad accumularsi perché non abbiamo il tempo di implementarli. Qualche idea? La risposta è che a volte non ha senso smettere fare le 3S e migliorare quando il carico di lavoro è schiacciante, quindi risponderò alla domanda raccontando una storia su cosa successe alla FASCAP. Molti anni fa lavoravamo regolarmente anche nei fini di settimana perché il nostro carico di lavoro era enorme. Non sembrava riuscivamo mai a recuperare. Alla fine ho detto a tutti stop, smettete di lavorare, puliamo le nostre aree di lavoro, applichiamo le 3S per ogni cosa e facciamo dei miglioramenti. E se ci vuole un'ora o addirittura 4 ore ogni giorno per farlo non mi importa, lo facciamo e poi torniamo a lavorare. Ora come potrai immaginare ci fu una grande angoscia tra tutti quanti i dipendenti perché pensavano di non fare altro che andare avanti e indietro. Gli ho assicurati che se avessero preso il tempo per migliorare e creare un'area di lavoro ordinata, pulita e ben organizzata avrebbero sbbrigato più lavoro e avrebbero recuperato. Così andammo avanti e ci siamo impegnati ad attuare le 3S e a migliorare, indipendentemente dal carico di lavoro e ci riuscimmo. Non solo abbiamo raggiunto quell'obiettivo, ma abbiamo aumentato il fatturato di diversi milioni di dollari in più in affari con lo stesso numero di persone senza mai fare straordinari. Questa è la differenza tra fare del miglioramento continuo una priorità e il farlo quando è conveniente. Migliorare in primo luogo non solo ti dà il miglioramento in se stesso, ma alleggerisce anche il carico e ti permette di tenere il passo con l'aumento rapido della domanda. È controintuitivo e lo capisco, ma ho imparato questa lezione e sono dedicato al 100% a questo. Ci assicuriamo che applichiamo le 3S in tutte le nostre aree di lavoro e che ognuno abbia fatto un miglioramento di due secondi prima di iniziare il nostro lavoro di produzione. Quando il lavoro è fluido, il caos viene eliminato. Lean non è solo una filosofia che conviene, è alla base di grandi aziende. Più Lean diventa una priorità consumante, più il lavoro sarà veloce e fluido e i miglioramenti ripagheranno i dividendi dell'eccellenza operativa. La nona domanda viene ancora da Ashley. Motivazione. Quando ti stai solo abbattendo ed è uno di quei giorni, come fai a motivare te stesso? Tieni presente che questo è il primo giorno di Lean per la nostra azienda, quindi non è ancora autoalimentato. I miei dipendenti mi osservano per trarre motivazione, perciò vedermi abbattuto ha un effetto negativo. Hai qualche consiglio? Ashley, come sempre fai delle eccellenti domande. Ecco la risposta, sarò onesto con te. Anch'io ho avuto quei momenti. Ho una vita molto ricca e non intendo solo finanziariamente. Ho molta gioia e successo nella mia vita. Ho molte buone relazioni con persone in tutto il mondo. Riconosco che tutto questo è grazie al fatto che ho scelto di seguire i principi storici di grandezza. In altre parole, le scelte che ho fatto nella mia vita sono state determinate da principi che hanno prodotto grandi risultati nel corso della storia. Questi sono principi che, implementati da qualsiasi essere umano nel corso del tempo, hanno prodotto risultati sorprendenti. Non buoni, ma sorprendenti. Per me il migliore esempio è quello seguito dai nostri padri fondatori, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Il risultato è un paese che ha fatto più bene per più persone di qualsiasi forma organizzata di governo nella storia dell'uomo. Non è perfetto, ma questa singola idea è diventata la pietra di prova per le persone di ogni nazione. Milioni oggi sono liberi a causa di principi che producono ottimi risultati. I miei principi preferiti sono, metti le persone al centro della tua vita. Questo è forse il mio preferito. Il secondo è, perseguisci la cosa giusta prima che il profitto. Il profitto seguirà. E il terzo è, insegna e forma la gente. Ogni volta che addestri intensamente una persona, la sua capacità di svolgere un lavoro con efficacia aumenta drammaticamente, in modo significativo di più di quelle persone che sono state addestrate solo moderatamente o occasionalmente. Il miglior esempio di insegnamento e di formazione sono gli US Navy Seals, che sono i corpi speciali della Marina Militare degli Stati Uniti. Se prendete le persone che sono state addestrate a un livello così alto e le mettete in situazioni stressanti, si comporteranno con costanza nel 99 per cento dei casi. Io mi chiedo, se prendo questi principi e li rendo il fulcro del modo in cui faccio le cose, è inevitabile che riuscirò a ottenere ottimi risultati. Quindi, in quei giorni quando mi chiedo, wow, voglio veramente continuare a farlo, questo è un sacco di lavoro, le persone lo apprezzano, questo è difficile. Rifletto sempre sul fatto che ho fatto la cosa difficile. Ho abbassato la testa e sono andato avanti applicando questi principi. Ecco perché la mia vita è piena e ricca. Queste idee ottengono ottimi risultati. Quindi non voglio mai deviare dal seguire questi principi. Storicamente hanno prodotto sostenibilità, equità, gioia, soddisfazione e sì, anche profitto. Concentrarmi sugli altri mi porta piacere e felicità. Se non fossi concentrato nell'aiutare le persone non avrei le relazioni preziose che ho con pressione in tutto il mondo. E questo mi tiene motivato. Quello che mi motiva è un gruppo storico di lavoro che urla che questi principi e queste idee funzionano, per cui non rinunciare mai. La decima domanda è da Sam di Israele, che mi ha chiesto, ho appena visto il tuo video su come fare mettere le radici a Lean. Come sempre mi piace l'attenzione e la semplicità del tuo messaggio. Tuttavia mi chiedevo una domanda ipotetica. Da quello che capisco da te e dal libro, l'approccio di Two Second Lean è stato sviluppato qualche anno durante il tuo viaggio Lean. Pensi che se aveste iniziato con l'approccio a tre passi a cui fai riferimento nel video, in cui insegna le persone a vedere i rifiuti, a risolvere ciò che dà loro fastidio e a fare il video prima e dopo, saresti arrivato a questo punto. Per esempio, nel capitolo 2 di questo libro, descrivi come hai ottenuto il tempo di preparazione della macchina da 45 minuti a 5 minuti. Pensi che se avessi iniziato con l'approccio di Two Second Lean avresti potuto farlo? O in altre parole, come si va dal concetto di Two Second Lean, che sembra più localmente focalizzato alle soluzioni che influenzano l'intero sistema nella sua globalità? È possibile che io non capisca completamente il concetto per cui potrei stare fraintendendolo quando dico che è focalizzato a livello locale. La domanda di Sam ci consente di toccare un punto molto importante. Con Two Second Lean sembra che io sia concentrato su piccoli miglioramenti e sembra che io non sia un sostenitore di eventi Kaizen. Tuttavia, quando Brad e John vennero la prima volta da noi per insegnarci, hanno utilizzato eventi Kaizen come un metodo primario per guidare i miglioramenti. Innanzitutto dovresti sapere che proprio la ragione per cui abbiamo risultati così efficaci e la fasca è proprio per l'approccio Two Second Lean. Ti assicuro che c'è più di quello che si vede a prima vista o non ho fatto un buon lavoro nello spiegare tutti i processi dietro la scena che sono focalizzati sul grande obiettivo che è il flusso di valore nella sua totalità. Il mio obiettivo con Two Second Lean era quello di sviluppare una strategia facile che consentisse alle persone di costruire una cultura Lean e di avere successo nel farla adottare da tutti. Negli ultimi 11 anni ho scoperto che sono i piccoli miglioramenti incrementali a fare il miglior lavoro e infatti fanno un lavoro migliore rispetto ai grandi eventi Kaizen. Detto questo non significa che gli eventi Kaizen non abbiano valore. Semplicemente non sono la mia strategia preferita. Lean globale. Considero questo come Lean globale perché alla fine dei conti tutti devono capire che ciò che stiamo cercando di fare in qualsiasi processo, grande o piccolo, è quello di eliminare gli sprechi. Vogliamo consentire al cliente di raggiungere il massimo valore. Quando si prende l'aspetto iniziale di qualsiasi processo è importante guardarlo globalmente. Non ci si dovrebbe concentrarsi solo sulla rimozione di una piccola quantità di sprechi da un passo particolare perché quel passo in sé potrebbe essere sprecato. È possibile rimuovere tutti gli sprechi che si desidera da un processo ma la linea di fondo è che il processo stesso potrebbe non fornire valore al cliente. Questo sarebbe un esempio classico dell'elaborazione. Tornate indietro e chiedetevi che cosa stiamo cercando di fare qui per il cliente? Che valore stiamo cercando di far fluire verso il cliente? Innanzitutto guardalo da questa prospettiva globale in combinazione con piccoli miglioramenti incrementali. Nella mia ricerca per rendere le cose semplici ho fallito non prestando un'attenzione adeguata a una prospettiva globale. La nostra gente ha una prospettiva globale ma non ho mai discusso di questo e né di come otteniamo quella componente cruciale. Ogni giorno insegniamo al nostro gruppo una serie di principi che costituiscono il nucleo della nostra filosofia aziendale. Uno di questi principi è che Toyota non cerca mai di rimuovere i rifiuti da qualsiasi processo a meno che non possano tagliarlo a metà. A prima vista questo principio non sembra in linea con il concetto di 2 second lean, tuttavia in realtà coincide alla perfezione. Il nostro gruppo sa che l'obiettivo è quello di prendere un processo che richiede 10 minuti e lo trasforma in 5 minuti. Poi porti 5 minuti a 2 minuti e mezzo. Vedono l'immagine grande e il pennello che applica la vernice è il miglioramento di 2 secondi. Le meccaniche di come ci arrivano è fatto attraverso piccoli miglioramenti incrementali. Anche il nostro gruppo sa come individuare l'ostacolo più grande. Tutti sono stati addestrati a capire che il collo di bottiglia il più grande sostegno del lavoro in un processo particolare è il posto migliore per vedere ed eliminare i rifiuti. Inoltre sanno chiedersi è l'attività che sto facendo che dà un valore al cliente o è solo un processo che è stato aggiunto? Sto cercando di eliminare i rifiuti anche se il processo non ha alcun valore? Capiscono fortemente questi tre concetti. Capiscono che non vogliamo fare nulla a meno che non stiamo distribuendo valore al cliente. C'è un valore per il cliente se mettiamo un sacchetto di plastica intorno a un pezzo? Certo è bello mettere un sacchetto di plastica intorno ad un articolo ma c'è qualche valore in questo? Se non c'è alcun valore non cercheremo di migliorare il processo riducendo la dimensione della busta o trovando un modo più veloce per mettere la busta. Se la busta non aggiunge valore per il cliente allora è uno spreco. Un ottimo esempio di questo è l'imballaggio dei prodotti Apple. Recentemente ho comprato un altro iMac per la nostra azienda. Sono rimasto sorpreso quando ho aperto la scatola. C'era una quantità minima di imballaggio. Meno dell'ultima volta che avevo comprato qualcosa da Apple sei mesi fa. Ho notato che intorno al computer non c'era più un sacchetto di plastica ma era stato messo tra due pezzi di schiuma con il cavo di alimentazione e un piccolo manuale chiuso. Tutto lì. Sono rimasto quasi sconvolto che non c'erano più le tipiche quantità voluminose di imballaggi e rifiuti che accompagnano la maggior parte dei prodotti nel mercato di oggi. Apple ha chiaramente compreso che questo non è di alcun beneficio per il cliente. In realtà ho finito per sentirmi ancora meglio sul prodotto quando ho visto quanto fosse confezionato così intelligentemente e con così poco spreco. È indispensabile che i dipendenti comprendano gli otto sprechi. È imperativo che capiscano che l'obiettivo è quello di tagliare tutto a metà non solo fare piccoli miglioramenti incrementali. I miglioramenti incrementali sono gli strumenti che utilizziamo per tagliare tutto a metà eppure stanno sempre guardando la grande immagine come risultato dell'insegnamento e della formazione che facciamo quotidianamente nella nostra riunione mattutina. Il link globale è un concetto importante che io posso aver trascurato o non identificato abbastanza chiaramente nei miei scritti precedenti ma sto dedicandogli tempo ora per chiarire. Avere una prospettiva globale è ugualmente importante che avere una prospettiva di due secondi. Entrambi lavorano in tandem per produrre una cultura di successo e per consentire di far fruire il valore verso il cliente. Un altro modo di sviluppare un quadro globale alla FastCap è attraverso la grande dieta del materiale che digeriamo regolarmente nel nostro insegnamento e formazione. Libri come The Way of Toyota, 14 principi di eccellenza operativo e il libro di Art Burn, The Learn Turnaround, sono solo alcuni esempi di dozzine di libri che leggiamo per migliorare la nostra comprensione di lean. Recentemente nella mia trasmissione l'innovatore americano ho detto il nostro obiettivo è che tutto sia privo di fatica o che ci sia zero fatica in ogni attività. Un ascoltatore Shannon ha scritto wow questo rende lean così tangibile. L'idea che ogni attività dovrebbe avere zero fatica o essere senza fatica nella terminologia lean significa che non ci dovrebbero essere in termini giapponesi muri che vuol dire aggravi o fatica, mura disomogeneità o incompatibilità e muda che sono gli sprechi, gli eccessi che sono il risultato di un carico che produce disomogeneità o mancanza di flusso che rende ogni cosa una lotta. Se non hai alcun aggravio allora avrai l'omogeneità che riduce i rifiuti, rimuove la fatica e consente il flusso di valore per il cliente. In termini semplici fatica zero riassume perfettamente l'obiettivo di lean e perché è così importante che tutto debba fluire. Il flusso è esattamente quello che il 2 second lean offre nell'impianto produttivo. 2 second lean è l'approccio lean per implementare lean. Per la maggior parte lean riguarda il flusso e l'uniformità. Gli eventi Kaizen mentre hanno la capacità di produrre risultati positivi, come facemmo nei primi anni alla FASCAP, non si sono dimostrati il modello migliore per noi. Credo che gli eventi Kaizen siano essenzialmente l'applicazione di principi lean in lotti. Non introducono flussi nel luogo di lavoro. Sono per natura dirompenti. Richiedono di fermarsi per un giorno, una settimana o qualunque tempo occorra affinché tutti si concentrino su una particolare area. E questo crea irregolarità e addirittura un peso per il sistema. Penso che l'approccio di 2 second lean sia riuscito perché chiede piccoli miglioramenti su base giornaliera in un tempo predefinito. La prima cosa della mattina prima di iniziare la tua normale produzione. Nel fare questo si introduce il flusso di miglioramenti e non si introduce incomprensione nel luogo di lavoro. 2 second lean è il principio lean applicato in modo uniforme e coerente che consente un miglioramento continuo di flusso attraverso qualsiasi organizzazione. Shannon ha anche scritto lean si può ridurre a questo concetto che lean è veramente la regola d'oro. Fai agli altri come vorresti che sia fatto a te. Lean rende la persona che fa il lavoro un avvocato in tempo reale per il cliente. Il cliente non può essere dentro alla fabbrica assicurandosi che gli sia consegnato valore ma un dipendente ben addestrato che pensa lean è il migliore avvocato del cliente. Lean fornisce al cliente solo l'attività a valore aggiunto. Se tu fossi il cliente è quello che vorresti. Come produttore di una qualsiasi cosa sia alimentare sia elettronica software auto o assistenza al medica il mio vero ruolo è di essere continuamente l'avvocato dentro la fabbrica per il cliente. Come cliente posso essere molto eccitato dall'idea che ogni organizzazione sia concentrata attentamente sul servizio che mi offre. Il lean globale ha molteplici aspetti ma gli avvocati in tempo reale del cliente possono essere il migliore esempio di lean globale. Ho imparato tanto dalla collaborazione con gli altri. Io cerco deliberatamente di dare riconoscenza non cerco di ottenere riconoscenza e il risultato è una cultura collaborativa dinamica in cui ognuno può imparare e migliorare ogni volta. Sam e Shannon oltre a migliaia di altri hanno dato un contributo profondo nell'aiutarmi a capire la potenza di essere un pensatore lean. Isaac un altro ascoltatore grande pensatore lean ha recentemente inviato questa mail dopo aver visto uno show di american innovator. Paul la maggior parte degli adulti ha perso l'entusiasmo da bambino che tu hai riguardo la vita e la scoperta. È così rinfrescante vedere come tu sia entusiasta della vita e della prospettiva di un apprendimento continuo. Ebbene sì sono entusiasta di two second lean, del lean globale, dell'avvocato lean, del lean della regola d'oro e direi anche del lean nella scuola nido. L'idea chiave di questo capitolo è che lean è la regola d'oro. Capitolo 16. Lean è una lingua straniera. Spesso quando parlo dico cose che possono far sentire le persone a disagio. Parlo una lingua d'affari che spesso sembra una lingua straniera. ecco alcune delle mie parole preferite e che cosa significano per me. Fiducia. L'atto di lasciare che le persone sbaglino. Parlo di fiducia nelle mie persone. Per la maggior parte dei leader è molto scomodo fidarsi delle proprie persone perché i leader si elevano alla posizione di leadership avendo tutte le risposte. Sono leader a causa del loro acume, dell'intelligenza, della loro capacità di fare le cose. Assumono persone per sostenere queste attività ma raramente le invitano ad innovare come pari nel loro processo. Raramente si fidano delle loro persone e in questo modo sprecano una enorme quantità di potenziale. Io mi fido della mia gente e so che sbaglieranno così come sbaglio anch'io. La maggior parte dei maggiori progressi che ho avuto sono venuti al costo dei miei errori. Perché non dovrei consentire alla mia gente la stessa opportunità e permettere loro di crescere e sperimentare queste lezioni allo stesso modo che ho fatto io? La fiducia è un ingrediente indispensabile nello sviluppo di una cultura lean e probabilmente è quello che mette più a disagio le persone. Molti non vogliono rischiare che qualcuno sbagli. Sbagliare consente di acquisire profondi e seri insegnamenti il che si traduce in una forza propulsiva di cui la maggior parte delle aziende e delle organizzazioni hanno disperatamente bisogno. I leader sono sempre alla ricerca del vantaggio in competizione ma alla fine se le fanno sfuggire perché rifiutano di fidarsi della loro gente. Un'altra parola del mio vocabolario è fanatico che vuol dire abbracciare idee storiche provate dal tempo con emozione e con inerrestabile risolutezza. La maggior parte dei dirigenti pensa di dover aver sempre il sangue freddo e che non si può entusiasmare di nulla. Io sono entusiasta di tutto, in particolare della vita stessa. Secondo me essere fanatico è fondamentale per essere un leader efficace. Io sono un fanatico per l'adesione ai principi testati di tempo per eliminare in modo implacabile. Gli sprechi è per far crescere le persone. Sono un fanatico dei principi lean. Perché? Perché funzionano. Hanno sempre funzionato e continueranno a funzionare per chiunque li applichi con passione. Queste sono le cose che le più grandi aziende del mondo hanno utilizzato come loro fondamento e per cui vale la pena di essere un po' fanatico. La Toyota, Harley Davidson, Virginia Mason Hospital, Wiremold, Southwest Airlines e molte altre compagnie hanno applicato in maniera fanatica i principi del pensiero lean in un'inesorabile ricerca di principi testati nel tempo e hanno prodotto risultati sorprendenti. Per queste società lean non è semplicemente un'altra metodologia o uno strumento nella cassetta degli attrezzi. È una strategia distintiva che si applica a 360 gradi in tutto ciò che fanno. Un altro termine del mio vocabolario è deflessione che è l'atto di onorare gli altri. Uno dei concetti più potenti per diventare un leader efficace lean è la capacità di spostare il merito da te stesso e di darlo ad altri. Questo inizia dall'alto, è modellato in alto e deve rimanere l'idea più strategica che un leader ha. Quando il leader più in alto lo prende come modello tutti gli altri faranno la stessa cosa. È nell'atto di deflessione che le persone conquistano i più grandi scettici. Se in un'azienda c'è una cultura di arrivismo le persone saranno in conflitto tra di loro e la cultura collaborativa sarà soppressa. La deflessione è magica ed è in alto nella lista del vocabolario della leadership lean efficace. Umanità, l'atto di riconoscere i talenti degli altri. Lean è tutto centrato sulle persone. La nostra missione è quella di cambiare e di migliorare l'umanità. Al centro lean non è altro che l'insegnamento, la formazione, la raffinazione, l'apprendimento e il miglioramento delle condizioni delle persone. Lean non è un sistema meccanico per eliminare gli sprechi. È una metodologia per cambiare la mente delle persone sul modo in cui vedono il lavoro. Il lavoro è nobile e possiamo fare tanto per elevare qualcosa che tutti facciamo. Audace, la convinzione costante di poter risolvere l'impossibile. I pensatori lean sono audaci. Siamo qui per cambiare il mondo, non siamo qui per creare buone e sane imprese. L'obiettivo di qualsiasi leader lean è molto più che costruire una linea di fondo. Vediamo la possibilità che il modo di pensare lean possa migliorare significativamente la qualità delle vite della gente. Siamo qui affinché questo accada e durante il processo per cambiare il mondo. Kata, il ritmo del lavoro. Amiamo le routine che creano l'eccellenza. Kata è una parola giapponese che significa semplicemente routine. Le routine che implementiamo come pensatori lean sono la riunione del mattino e il miglioramento quotidiano di due secondi. La riunione del mattino crea una chiara comunicazione tra tutti i membri del team. Il miglioramento giornaliero di due secondi è il ritmo di battuta per una vibrante cultura lean. L'ultimo dei termini che voglio portare in questo libro è profitto, che è il risultato dell'eccellenza. Forse uno dei concetti più controversi che trasmetto è che non siamo qui per fare soldi. L'utile e il denaro sono un sottoprodotto di un'efficace cultura lean. Siamo qui prima e soprattutto per migliorare la qualità della vita del cliente. Internamente siamo qui per far crescere la nostra gente. Se facciamo entrambe queste cose a un livello elevato saremo redditizi. Tuttavia il profitto non è il motivo per fare lean, né è il motivo per cui una società esiste. Se ti dicessi il numero di volte che ho incontrato aziende che sono andate a picco, con buoni prodotti e persone capaci, saresti scioccato. In definitiva il problema deriva dalla leadership che si concentra sul profitto e su se stessa dimenticando perché l'attività esiste in primo luogo. Sposta la tua mente dai numeri e concentrati sul tuo cliente, sulle tue persone e nel servire gli altri. E sarai sorpreso di come tutto il resto funzionerà. Capitolo 17. Organizzazione degli sprechi In un recente viaggio in Europa ho avuto una sessione di domande e risposte con un gruppo molto attento di bancari lean della Tatra Banca, una controllata slovacca della Raiffeisen Bank International di Vienna. Le domande erano eccezionali, quindi ho pensato di dedicare un capitolo per rispondere alle loro domande e parlare della loro notevole applicazione di lean. L'ambiente bancario sarebbe l'ultimo posto dove mi aspetterei di trovare una vibrante cultura lean. Raiffeisen è grande nell'Europa orientale in 17 nazioni e con oltre 60.000 dipendenti. La dimensione da sola sarebbe formidabile se si cercasse di spostare la cultura al pensiero lean. La banca di solito non è produzione manufatturiera, non che questo sia importante, ma non è certo l'epicentro di lean. Siamo schietti. I bancari possono essere rigidi e inflissibili e non troppo cordiali, ma non la Raiffeisen. Nel mio viaggio lean di 12 anni non ho mai incontrato un gruppo di persone infuocate come loro. Hanno una mentalità del tipo che venga l'inferno o l'acqua alta faremo questa cosa. Inoltre sono divertenti, creativi e molto avanzati nella loro comprensione di come funzioni lean. Per i loro campioni lean e per i navigatori lean, lean non è uno strumento di business rigido. Lean è una piattaforma per la creatività. L'innovazione è per farsi un sacco di risate. Ecco tre esempi dei pensatori lean di Raiffeisen al lavoro. Arrivato al loro forum lean, ho partecipato a un evento serale in una barca sul Danubio. Dopo l'aperitivo e la cenna, Lian e io siamo stati informati di un esercizio di team building. Natalia, membro del consiglio di amministrazione della banca, sussurrò. Non crederai che cosa stanno per fare. Avranno un ambito lean basato sugli sprechi che hanno trovato. Ogni squadra dovrà vestire una persona con gli sprechi. Vediamo fino a che punto possono essere creativi. Ho pensato, wow, sembra interessante ma funzionerà. Beh, dopo circa un'ora che ogni squadra aveva lavorato con grande diligenza, la passerella fu aperta ed ebbe inizio la sfilata degli sprechi. Uno dopo l'altro i concorrenti che indessavano gli sprechi, che sono comuni a tutti quanti noi, come bottiglie di plastica, giornali, involucri di bolle, cartone, eccetera eccetera, avevano tutta la nostra attenzione. Era la cosa più divertente che io abbia mai visto e illustrava in modo chiaro quanto esistano gli sprechi e quanto sia facile non individuarli. Appendere sprechi su di un singolo individuo li porta veramente in vita. Ho fatto un video perché pensavo che la presentazione fosse veramente efficace. Si chiama The Lean Catwalk, la passerella Lean. Questo è un ottimo esempio di come una banca abbia insegnato alla propria gente a pensare creativamente e a vedere gli sprechi divertendosi allo stesso tempo. Un secondo esempio è il capitano Bob e i suoi tre compagni. Il giorno successivo c'erano lezioni di Lean in gruppi separati per persone che venivano da 17 paesi diversi. Uno di questi era incredibile. C'era il capitano Bob e i suoi tre compagni legati a una corda. Ogni compagno aveva una camicia personalizzata che indicava il suo tipo di spreco. C'era il primo compagno che era chiamato variabilità. Aveva un gancio sul braccio e gridava a gran voce sto rubando i profitti dei tuoi clienti. Poi c'era il secondo compagno rigidità che gridava ruberò la tua redditività. Sono inflessibile. Le esigenze dei vostri clienti non sono importanti. Faccio sì che i tuoi clienti non tornino da te. L'ultimo compagno aveva invece una camicia su cui c'era scritto capitano degli alti mari. Questo era il capitano dei tanti sprechi. Tutti e tre i compagni caratterizzavano gli attributi di pensatori non Lean. Il capitano Bob li aveva circoscritti e aveva limitato la loro influenza sulla sua nave. Divertirsi sull'inconsistenza e sulla rigidità ha mostrato con grande chiarezza il modo più veloce per uccidere i tuoi clienti, i tuoi affari e il tuo profitto. Chiaramente i prezziatori Lean di Reifesen hanno una comprensione acuta di ciò che il pensiero Lean può portare al tavolo e lo hanno comunicato in un modo divertente e memorabile. Il terzo esempio è forse il più divertente di tutti. Uno da un altro paese aveva uno suami seduto in un abito bianco con un lenzuolo intorno alla testa. Lo chiamarono il Guru Lean. Una ragazza suonava una campana e diceva vieni a chiedere al Guru Lean tutte le tue domande Lean. E naturalmente una bella ragazza gli era seduta in braccio. La gente si avvicinava e chiedeva allo suami come posso applicare Lean in questa situazione? Quello che posso dire è che queste persone sanno divertirsi e ho apprezzato sia la visualizzazione sia l'umorismo utilizzati per rendere Lean rilevante e divertente. Reifesen capisce che Lean non è solo qualcosa che fai. Lean è una strategia costruita attorno a una forte cultura del pensiero Lean che può effettivamente far passare il valore al cliente. Quando è venuto il momento di parlare uno dei punti che ho fatto è che Lean non è di essere organizzato perché sono stato organizzato prima di diventare un pensatore Lean. Avevo una bella fabbrica che era ben organizzata ed era l'esempio quintessenziale di quello che dovrebbe essere una struttura organizzata. Non avevo capito gli 8 sprechi e la mia fabbrica è stato un ottimo esempio di sovrapproduzione e ancora lo è per alcuni versi. Avevo effettivamente organizzato gli sprechi. Quando chiesi al gruppo se c'era qualcosa che dicevo fosse un po' sconvolgente o interessante Petra alzò la mano e disse sì tutta questa cosa di essere organizzati è che non è veramente Lean. Ho risposto puoi organizzare gli sprechi poi ho guardato la diapositiva che ho appena mostrato nei miei ripiani pieni di inventario perfettamente organizzati lucidi e prevedibili bene illustrati e con buoni controlli visivi tutti gli elementi di Lean. Ma purtroppo l'inventario era uno spreco era un esempio vivente di sovrapproduzione e la sovrapproduzione è dove cominciano tutti quanti gli sprechi. In pratica avevo organizzato efficientemente gli sprechi. Quindi se si sovrapproduce come stavo facendo prima di capire Lean e come ancora faccio allora non importa quanto sia ben organizzato hai ancora organizzato sprechi. Penso a Petra che è stata una rivelazione perché molti pensatori Lean trascorrono molto tempo assicurandosi che tutto sia perfettamente organizzato. So di essere colpevole di questo ma dobbiamo renderci conto che organizzare qualcosa non è indicativo di essere Lean. Lean sta nell'eliminare gli sprechi oppure l'attività a valore aggiunto. Tutto ciò che non aggiunge valore al cliente è spreco. Il cliente vuole il prodotto. Non vogliono pagare affinché io lo produca, lo trasporti, lo metta su uno scaffale, lo gestisca, fornisca energia e riscaldamento al magazzino per conservarlo, per illuminare gli scaffali e poi pagare tutti i dipendenti per salire, scendere e fare l'inventario una volta al mese. Questo è uno spreco totale. È organizzato ma è uno spreco totale. Il titolo del mio discorso era Lean è semplice. Alla fine del discorso uno dei partecipanti mi ha chiesto una domanda fantastica. Qual è il miglioramento Lean più importante che hai fatto mai? Ho pensato wow! Questo non me l'hanno mai chiesto. Ho dovuto fermarmi e pensare perché abbiamo fatto tantissimi grandi miglioramenti Lean. Dopo aver pensato realizzai che il miglior miglioramento fu quello di quando passammo dal fare eventi Kaizen a fare miglioramenti di soli due secondi. Perché da quel momento tutti quanti hanno abbracciato la mentalità Lean. Lo abbiamo fatto semplicemente chiedendo alle persone di risolvere quello che gli dava fastidio, di osservare le proprie aree di lavoro e di chiedersi è tutto perfetto? Non cambierei una sola cosa. Certamente deve esserci qualcosa che ti fa andare in bestia. E credo che il miglior singolo miglioramento che abbia mai fatto è quello di aver messo le persone a pensare a questo livello sulla cosa che dà loro fastidio per poi fare lo sforzo per migliorarla o risolverla. Non importa quanto piccolo il miglioramento sia stato. Prima di Two Second Lean la metodologia Lean mi avrebbe richiesto di organizzare eventi Kaizen. Qualcuno doveva organizzare un evento, gestire un giornale Kaizen e una varietà di altri strumenti Kaizen. Ma quando ho semplicemente detto basta faticare, correggiamo gli errori e facciamo un miglioramento di due secondi, quello fu il primo elemento rivoluzionario per la fasca. Mentre molti alzavano le mani per fare domande, un'altra ragazza mi sentì dire ovunque vado vedo sprechi. Non importa se sto comprando un hot dog per le strade di Praga o in un centro di conferenze come questo. Vedo sprechi ovunque. E questo è stato molto importante per il mio successo. Vedo sprechi ovunque. Ho addestrato i miei occhi per vedere tutti questi sprechi. A questo punto una giovane donna alzò la mano e fece una delle domande migliori. Invece di indicarmi le chiese dove vedi gli sprechi in noi? E questo è un esempio di una cultura lean matura perché sono così abbastanza a loro agio da poter chiedere dove vedo i loro sprechi. Quando parlo di solito prendo 5 o 6 mini iPolls e Supermounts, uno dei prodotti che ho sviluppato per fare la produzione cinematografica lean e li do a persone che mi fanno grandi domande. Inutile dire che gliene diedi uno prontamente e chiesi al pubblico perché ho scelto di dare il mini iPoll e il Supermount per questa domanda. Dopo tutte le altre domande che mi hanno questo questa sera, la ragazza rispose nell'umorismo tipico della Reifesen perché sono bellissima. Scoppiò una grossa risata in sala e ci furono varie risposte ma finalmente qualcuno diede quella giusta perché lei si è concentrata su se stessa e sui suoi problemi. Ed è proprio così. Questa è una delle cose più difficili da fare per ogni cultura. Il segno di una cultura matura è di sentirsi a proprio agio chiedendo le domande. Che cosa devo migliorare? Dov'è il mio spreco? Che cosa vedi? Penso che una delle cose più importanti sia stata la nostra volontà implacabile di chiedere ai nostri clienti dove stiamo sbagliando e come possiamo migliorare. Chiediamo questo sia ai nostri clienti e ce lo chiediamo anche internamente tra di noi. Non ci sentiamo minacciati da chi dice sai penso che ci possa essere un modo migliore per farlo oppure Bob sei sicuro che quella che stai applicando sia una metodologia lean e nove volte su dieci non c'è difensività ma solo una voglia di migliorare. Questa è una pietra miliare nel costruire una qualsiasi cultura lean e nella sessione di domande risposte questa ragazza aveva fatto un ottimo lavoro di riflessione su come tutti dovremmo affrontare il miglioramento. Ora ricordati che qui stiamo parlando di una banca e questo non è il posto in cui ci si aspetterebbe di trovare un pensiero lean così avanzato. Poi mi venne chiesto come si fa a insegnare lean a un bambino di sei anni? Pensai che questa fosse un'altra domanda grandiosa e neanche farla apposta la diapositiva che avrei dovuto presentare immediatamente dopo era sui bambini della Cornerstone Christian School su come hanno implementato lean e su come hanno fatto i video prima e dopo. Ho mostrato il video e ho detto è molto semplice fai vedere un problema ai bambini e poi consenti loro di creare una soluzione e poi incoraggiarli a fare i video di prima e dopo. Quando fai così l'esperienza lean diventa divertente e pertinente. Questo è come insegnare lean a un bambino di sei anni. Renderlo pertinente e renderlo divertente. Uno dei miei miglioramenti preferiti è quello di una bambina di sei anni Katie. Katie aveva sempre un problema ad arrivare in tempo per prendere il buscolastico alla mattina. Il padre che è un pensatore lean le ha suggerito di fermarsi di domandarsi che cosa sta causando il problema che ti fa ritardare e Katie cominciò a pensare beh papà la mattina non riesco a trovare il mio zaino e il padre le chiese perché non riesci a trovare il tuo zaino e Katie rispose perché lo lascio sempre da qualche parte e poi non lo trovo. Allora il padre le disse perché non troviamo un posto speciale per mettere il tuo zaino in modo che sia sempre nello stesso posto. Allora prima che gli ingranaggi di Katie cominciassero a girare stabilì un luogo specifico dove mettere il suo zaino ogni sera prima di andare a letto. Ora la mattina quando si sveglia si prepara si lava i denti va al posto predefinito prende il suo zaino e non è più in ritardo per la scuola. È così che insegni un pensiero lean a un bambino di sei anni. Lasciate che risolvano il problema e che si sentano partecipi della soluzione. Fate domande permettete loro di risolvere i loro problemi e di rendere il processo soprattutto divertente e pertinente. Potete immaginare il tipo di leader che sia impiegato o imprenditore che Katie Bailey sarà quando crescerà. Già in tenera età sta imparando a risolvere i problemi e a eliminare gli sprechi migliorando continuamente tutto. Il cometto successivo però è uno dei miei preferiti. Chiudo questo capitolo con questo. Chiesi alle persone pubblico. Come ti fa sentire lean? O cosa provi da lean? Perché non tutti sposano al cento per cento il modo di pensare lean? Lucia una giovane donna che stava seduta nelle file più dietro alzò la mano e disse lean ti fa sorridere anche al lavoro. La mia risposta fu perché ti senti in questo modo? E lei rispose dicendo perché lean rende più facile la mia vita. Lean rende la mia vita più felice? Lean mi rende più fiduciosa? Lean mi rende padrona del mio futuro? E come si fa a trovare una migliore definizione se non quella di Lucia? Lean è stato frainteso per essere la metodologia di togliere i posti di lavoro, di rendere le cose sterili con poco o nessuna creatività. Ma lean è l'opposto di tutto questo. Raramente semmai sottrae un singolo posto di lavoro. Al contrario crea opportunità illimitate e continua occupazione. Aggiunge la longevità per i dipendenti esistenti e la crescita per la gente nuova che viene assunta. Ed è questo il modo con cui funziona la FastCap. La mia risposta è stata quando sei un pensatore lean sei un elemento prezioso. Mentre avrei voluto dire ovunque la Lucia vada se rimane un forte pensatore lean ogni organizzazione la riconoscerà. Così come per tutti gli altri pensatori lean come un bene prezioso. Questa sessione di domande risposte presso la tatra banca è stata una tra le migliori che abbiamo avuto da uno dei gruppi più impegnati di persone che abbia mai incontrato. Loro hanno reso lean divertente, rilevante e non avevano paura di far domande toste e di riflettere sulle proprie azioni. Soprattutto il resto la leadership di Reifersen è incredibile. Tu sai chi sei. Grande lavoro, tanto di cappello. Il pensiero chiave lean ti rende il proprietario del tuo futuro. Capitolo 18. Il vero succo di lean. Nella nostra azienda abbiamo un principio che afferma semplicemente. Ci sono due tipi di persone al mondo. Quelli che danno e quelli che prendono. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di eliminare dalla nostra vita tutti quelli che prendono e per noi di dare a tutta l'umanità quanto più possibile e con tutta l'energia possibile. Un altro modo per esprimere questo concetto è ci sono due tipi di persone nel mondo. Persone felici che si concentrano sulla felicità degli altri e delle persone che sono infelici perché si concentrano sulla propria felicità. Quelli che danno e quelli che prendono. Questo è un concetto profondo di cui ho preso sempre più coscienza nel corso della mia vita. Un concetto che ha differenziato come mi comporto in ogni situazione. Non sto negoziando il vantaggio. Penso in termini di creazione di vantaggi per ambe le parti con un'enfasi sull'aiutare gli altri. Ho scoperto che ogni volta che agisco come un servo la vita migliora e che quando cerco di ricevere cose invece la vita diventa brutta. Nell'applicare questo principio a Lean ho scoperto che è esattamente la stessa cosa. Il vero succo di Lean viene quando si inizia a restituire. Abbiamo creato un'organizzazione Lean il cui obiettivo principale è primo di servire e fornire valore ai nostri clienti. Secondo di crescere e sviluppare pienamente le nostre persone. Il terzo è di restituire alla comunità e di rafforzare l'ambiente imprenditoriale. Queste tre attività contribuiranno a migliorare le qualità delle vite delle persone in tutto il mondo e questo è emozionante. Alla Fasca la nostra attività Lean non è fatta per profitto. Per la maggior parte i libri che abbiamo stampato li regaliamo così come offriamo gratis i libri in formato audio. Offriamo visite nella nostra struttura senza alcun costo e al contrario abbiamo costi in tempo e risorse della nostra azienda. Ma a questo modo le nostre persone crescono e fanno crescere gli altri. E le nostre persone sono consapevoli di dare il loro proprio contributo. Si sentono positive su se stesse e sulla loro capacità di fare la differenza. Stiamo creando un ambiente in cui le persone operano a un livello superiore rispetto a quello tradizionalmente previsto in un'organizzazione. Abbiamo costruito la nostra azienda interamente sul dare e restituire. Quando un'organizzazione si prefigge di incorporare o di costruire una cultura Lean è una grande impresa. E questa impresa sarà amplificata quando l'azienda comincia a insegnare, addestrare e facilitare le pratiche Lean al di fuori della propria organizzazione. Ecco quando abbiamo sperimentato il vero succo di Lean. Circa 6 o 7 anni fa abbiamo cominciato a consentire che la gente da fuori venisse a visitare la nostra piccola struttura imprevedibile che aveva difetti da cima a fondo. Ogni volta che qualcuno visitava la nostra struttura imparavamo sempre di più circa i nostri sprechi, circa le nostre carenze e diventavamo sempre più consapevoli di ulteriori opportunità per migliorare quello che stavamo facendo. In tal modo non solo abbiamo aiutato le persone a venire a visitare la nostra struttura ma abbiamo ricevuto il vantaggio di nuovi occhi che guardavano le nostre attività. A tutt'oggi continuiamo a farlo e lo facciamo con intensità e con proposito perché sappiamo che il vero succo di Lean viene quando si inizia a restituire. L'idea chiave del capitolo 18 è che è meglio dare che ricevere. Capitolo 19. Il 90% sono sprechi. Che dichiarazione sconcertante. La maggior parte allora gli rispondo tu e io siamo estremamente produttivi nella produzione di attività non valorizzanti. Dall'alba dei tempi l'uomo è sempre stato alla ricerca di essere più produttivo. Basti pensare a tutte le grandi innovazioni come la ruota, il mulino a vento, il motore a vapore, l'automobile e l'aereo. È nel nostro DNA il migliorare ma il modo in cui si migliora e i processi che implementiamo possono essere anche efficienti generatori di sprechi. Nel mondo Lean c'è qualcosa che chiamiamo spaghetti. Un semplice esercizio Lean sarebbe quello di tracciare il percorso a piedi di una persona che si reca a svolgere un compito comune come svuotare la lavastoviglie. La maggior parte di noi rimane scioccata per la quantità di attività senza valore aggiunto. Camminare, raggiungere un oggetto, aprire, chiudere, confrontata a quella col valore aggiunto, mettendo i piatti le posate negli armadi e nei cassetti per esempio. Il vero valore aggiunto è un millisecondo rispetto a tutti gli sprechi. Lo stesso vale per l'entusiasta del computer che passa la maggior parte del tempo facendo clic sul computer e alla ricerca dei documenti in contrasto con l'aggiunta di valore e la modifica e il miglioramento di qualcosa. Sono perfettamente consapevole degli sprechi e molte volte vedo scambi di 10 email tra me e i miei collaboratori quando ne sarebbero corse una o due al massimo. Il 90% di tutto quello che facciamo ogni giorno è sprechi. Questa è solo una realtà statistica. Gli esseri umani hanno una capacità naturale per creare, sviluppare e migliorare. Tuttavia è essenziale che lo sviluppiamo e lo utilizziamo al suo pieno potenziale. In sostanza siamo risolutori di problemi, è nel nostro DNA. Tuttavia la maggior parte delle volte non sfruttiamo questo potenziale innato perché non abbiamo un buon processo per farlo fruttare. Noi non siamo formiche che entrano e prendono appena un granello di sabbia, lo tirano fuori, lo impilano e scaviamo un buco. Noi entriamo, prendiamo il grano di sabbia, lo tiriamo fuori, lo impiliamo e poi abbiamo la capacità di chiedere come posso farlo meglio. E costruiamo un escavatore. La chiave è quella di creare una strategia, una intenzionalità, una metodologia che tradiga profitto da quel genio che ci ha dato Dio. Forse è per questo che sono tanto appassionato di Lean, perché fa proprio questo. È un sistema che fa fruttare quello che Dio ha infuso e disegnato in tutti noi. Forse la storia più efficace che posso usare per illustrare la quantità di sprechi nei processi e l'efficacia di una strategia Lean è la storia del nostro reparto di progettazione grafica. Devo ammettere che non ho mai trovato facile lavorare con i disegnatori grafici. Sono più inclini al lato artistico e spesso mancano di una predilezione naturale per elaborare i miglioramenti. A un certo punto avevamo due disegnatori grafici a tempo pieno ed eravamo sempre rimasti colpiti dal lavoro. Nel lavorare con loro ho notato una quantità eccessiva di apertura e di chiusura di file. E la ricerca di file, copie dei file e così via. Non riuscivo a capire come questo processo potesse essere così complicato. Quando glielo domandavo rispendevano dicendo che quello era proprio il modo in cui funziona la progettazione grafica. Sapevo che avrebbe potuto essere migliorata drasticamente. Indipendentemente da quanto gli ho insegnato Lean e da quanto li abbia spinti a migliorare il processo, non ero riuscito a ottenere i miglioramenti significativi di quel processo. Alla fine la mia frustrazione era talmente eccessiva per uno dei progettisti che alla fine si dimesse. Sì, questo è un esempio di Paul come un cattivo leader. Non ho mai detto che sono perfetto. Il secondo doveva essere licenziato. Invece di assumere un altro professionista ho preso dalla produzione Graham. Graham era un disegnatore grafico autodidatta che aveva lavorato in fabbrica e aveva fatto gli miglioramenti di due secondi in un modo straordinario. Ricorda, non era un disegnatore grafico con un'istruzione formale, ma in poche settimane riuscì a imparare le competenze necessarie a capire dove erano memorizzati i file e a recuperare tutto il lavoro arretrato. Alla fine avevo qualcuno che aveva applicato l'IN nel dipartimento di disegno grafico e ora non solo eravamo al passo con il lavoro, ma da solo aveva fatto il lavoro che due persone facevano prima e in più gli avanzava tempo per fare altre cose. Oggi la maggior parte dei lavori che gli vengono affidati li completa entro un'ora dal momento in cui gli vengono assegnati. Graham è instancabile nei miglioramenti. Non ricordo l'ultima volta che ho dovuto chiedergli di fare un miglioramento perché impiega i principi lean a ogni click del mouse. Non solo compie il lavoro di progettazione di due persone, ma aiuta in tre altri reparti significativi giorno per giorno. Questo illustra come il 90% di quello che facciamo sia sprechi. Ci sono infinite opportunità per eliminare gli sprechi e consentire il flusso di valore ai nostri clienti interni ed esterni. Capitolo 20. Campioni di lean. Manager di livello intermedio mi dicono continuamente. Il mio capo non lo fa e non sosterrà a quello che sto cercando di fare. La mia risposta invece sempre la stessa. Concentrati su di te. Sviluppa la tua area di influenza e si implacabile nel miglioramento continuo della tua vita. Se adotterai questo approccio, a breve tempo non solo sarai promosso, ma addirittura puoi arrivare leader della tua organizzazione o di un'altra organizzazione intelligente che capisce il potere della vera leadership lean. La leadership lean non è un po' diversa da quella dell'altra leadership. È completamente diversa. I leader tradizionali sono preoccupati per se stessi, per la loro posizione e per il loro status. Il leader lean invece sta sempre pensando alle persone che sono responsabili e come possono insegnare, addestrare, migliorare e migliorare la vita di tutti. Questa è leadership servile a livello più elevato. È una caratteristica rara e ricercata. Mi viene chiesto assai spesso se conosco dirigenti lean che vorrebbero un lavoro da manager per gestire un'organizzazione importante. Purtroppo la risposta è quasi sempre no. Vedete, ho incontrato e mi sono imbattuto in centinaia di professionisti, certificati, cinture verdi, cinture nere lean. Tuttavia ben pochi hanno la capacità di ispirare la gente alla grandezza. Proprio oggi mi è stato chiesto nuovamente se conosco qualcuno che potrei segnalare affinché assuma una posizione di leadership lean presso una grande società. Ho risposto che potrei pensare solo a una persona che ha le qualifiche per quel lavoro. Il suo nome è Bruce. Qui sotto riporto la risposta di Bruce che è l'essenza di questo capitolo. Quando tu ti trasformi in un leader lean, tu sei la bomba, una ranza rara e il cielo è il limite. Ciao Paul. E questa è la lettera di Bruce. Grazie per aver pensato a me per questa posizione. Sono onorato. Sembra una compagnia straordinaria. Come te, anche io sono riluttante a consigliare qualcuno, a meno che quella persona non sia una vera e propria stella lean. Conosco molti professionisti lean, ma francamente pochi. Pochissimi possiedono la personalità dinamica e coinvolgente che è necessaria per ispirare e stimolare una forza lavoro al fine di abbracciare una migrazione culturale verso lean. Ritengo che non sia etico consigliare un professionista lean solo perché sono un amico o un collega. Conosco solo una persona che sarebbe eccellente in quella posizione, ma come ci si può aspettare è ben pagato, circa 200.000 dollari all'anno, e ama davvero il suo lavoro e la sua vita nel Mississippi. Mi dispiace di non essere in grado di fornire una valida segnalazione. Firmato Bruce. Ho raccomandato Bruce per il lavoro non perché mi ha mostrato grafici e grafici di dati statistici su tutto il loro successo lean. Non ha cercato di impressionarmi con termini lean o con i concetti giapponesi. Non mi ha recitato tutte le società che ha trasformato sotto la sua grande direzione. Ho incontrato Bruce quando temmi un discorso. Era venuto a imparare anche se aveva 15 anni di esperienza più di quante ne avessi io. Si era seduto a un tavolo nella prima fila con 5 o 6 persone e tutti loro sorridevano divertiti per lean. Erano felici perché al centro del loro successo non c'erano gli strumenti e la terminologia lean ma la loro cultura. E' questo il modo con cui misuro il successo lean. Non ho mai visto una cultura come questa che non abbia prodotto statistiche sorprendenti ma ho visto molte statistiche e nessuna cultura. Sii un campione lean. Sarai amato, apprezzato e compensato più di quanto tu possa mai immaginare. Quando assumo qualcuno lo faccio per il carattere e poi gli insegno le competenze. Posso insegnare a qualcuno a fare il lavoro ma il carattere è una merce rara. Recentemente ho sviluppato un nuovo modo per selezionare le persone interessate a lavorare per la FASCAP. Chiedo loro di mandarmi un video veloce di 2-3 minuti che mi parli di loro stessi. Puoi imparare tanto da come rispondono a questa richiesta. I campioni non hanno alcun problema, dicono che non lo hanno mai fatto prima ma lo fanno e lo mandano subito. Altri invece esitano e presentano scuse per cui non vogliono farlo. Questo semplice compito rivela tanto sulle persone. Allo stesso tempo ti consente di incontrare molte più persone in modo da poter decidere con più efficacia su potenziali nuovi membri del team. L'idea chiave. I campioni amano le persone e le ispirano. Capitolo 21. Fai esplodere Lean. La maggior parte delle persone rifiuta il concetto di semplice perché gli dà uno schiaffo in faccia nel momento in cui si rifiutano di agire. Se aggiungi la complessità a qualsiasi cosa questa si rallenta e mette in pericolo il cammino che è davanti e farà sgonfiare le menti più brillanti. Questi sono i miei primi 11 passi per sovralimentare ogni cultura Lean in ordine di importanza. Se la tua cultura manca di energia e potenza torna al punto 1 e ripeti fino a quando non si sperimenta una fusione nucleare. 1. L'amministratore delegrato o il presidente devono abbracciare Lean personalmente e non delegarne l'implementazione. Deve partire dall'alto. 2. Bisogna tenere riunioni regolari come squadra. Preferibilmente una volta al giorno per affrontare le questioni, per parlare di miglioramenti e problemi e per insegnare i principi Lean. Non si può giocare la finale di Champions League senza avere un incontro per fare la strategia. Alla Fast Cup trattiamo ogni giorno come se stessimo giocando la finale di Champions League. In questo modo vinciamo i cuori e le menti dei nostri clienti e miglioriamo le prestazioni di tutta la squadra. 3. Imparare e insegnare gli otto sprechi. Tutti nell'organizzazione devono conoscerli a memoria senza utilizzare acronimi. Devono capirlo. Gli sprechi iniziano sempre con la sovrapproduzione, poi viene il trasporto, l'inventario, poi c'è il difetto, allora devi riparare il difetto creando gli sprechi di sovrapproduzione e mentre il cliente sta aspettando e tu stai perdendo la tua capacità data da Dio di migliorare e cambiare il mondo. 4. Il quarto punto è di fare sempre i video prima e dopo di tutti i miglioramenti fatti. Apri un canale YouTube e il concetto si diffonderà come un incendio attraverso la tua organizzazione. Mantieni le cose semplici. Il video deve essere fatto col tuo smartphone, non andare a comprare apparecchiature fotografiche o software costoso. È importante farlo immediatamente quando si vede il potenziale di un miglioramento. Non lavorare in lotti, non ritardarlo. La perfezione è una maledizione. Quinto punto è non indicare mai qualcun altro e dire guarda tutti i loro sprechi. Punta sempre il dito su te stesso perché hai abbastanza sprechi nella tua vita per altri 10 anni di vita. Non posso dirti quante volte dirigenti vengono da me dopo che parlo e cominciano a parlare degli sprechi di altri nelle loro organizzazioni. Io li guardo negli occhi e gli dico il problema sei tu. Questo inizia e finisce con te. Smettila di spiegarmi come devi cambiare tutti gli altri. Il problema sei tu. Dai tu la direzione e la gente ti seguirà. Sesto punto non riesci a trovare qualcosa da migliorare? Basta risolvere ciò che ti dà fastidio. Correggi tutto quello che ti crea fatica. Tutto ciò che non scorre liscio è una facile occasione per migliorare. Posso trovare 10 processi ingombranti nella prima ora che passo con chi che sia, compreso me stesso. Settimo da dove dovresti iniziare? Come dovresti trovare questi potenziali miglioramenti? Cerca dove si interrompe il lavoro. Il lavoro non deve mai smettere, deve scorrere, fluire. Nel momento in cui si ferma c'è uno spreco. Ottavo punto. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti? Devo assumere un consulente? La risposta è no. Se prendi un consulente garantirà la tua dipendenza da qualcun altro. Diventare un pensatore lino invece è facile, al contrario di quanto ti possano dire molti. Se impari questo da solo sarete profondamente incorporati nel modo in cui si pensa a tutto. Non tutti i consulenti sono negativi. Infatti molti sono buoni. La maggior parte dei consulenti sono utilizzati in modo scorretto. Non assumere mai un consulente per portare l'in nella tua organizzazione. Assumi un consulente per modificare e migliorare una cultura vibrante. Se un consulente ti porta alla sala conferenze, mostragli la porta e corri via come un pazzo. Il lavoro è dove si svolge il lavoro. In ufficio, nei locali di vendita o di produzione, non in una sala conferenze. Il nono punto è non cercare mai di convincere la tua famiglia a fare l'in. Fallo tu, fallo bene e diventerai un magnete per ogni persona che pensa in questo pianeta. Ecco perché il passo 1 è così importante. Guarda il video che è indicato alla fine del capitolo nel libro stampato, che si chiama Weekend Lean. Il decimo punto è che cosa succede se non sono il leader della mia organizzazione? Come posso influenzare il cambiamento e costruire una cultura lean? Indipendentemente dal punto in cui sei nella tua vita, ogni essere umano ha influenza su qualcosa e su qualcuno. Costruisci lean in quella sfera di influenza e sarai elevato al livello superiore in breve tempo. Undicesimo punto, non cercare mai la soluzione complessa per risolvere un problema. Segui sempre soluzioni semplici ed eleganti. Usa la tua testa, non il tuo portafoglio. L'idea chiave del capitolo 21 è che lean è divertente. Se non c'è divertimento manca il desert della vita. Capitolo 22. Video a tutta birra. Questo capitolo riguarda tutto il marketing lean. Abbiamo letteralmente aiutato migliaia di aziende in tutto il mondo ad attuare il modello di 2 second lean rendendo lean semplice e divertente. La domanda è ora come mettere la tua cultura divertente a tutta birra? Il motivo per cui tante culture hanno avuto tanta fortuna con l'implementazione di lean è perché sono stati determinati nella sua attuazione. Hanno sviluppato un modello coerente giornaliero. Fare le 3s, i miglioramenti di 2 secondi, la riunione del mattino e i video prima e dopo. Sono stato in più di 50 paesi e viaggiare mi permette di vedere tutti i diversi tipi di organizzazioni che ci sono nel mondo. Questa esposizione mi permette di vedere piccoli modi per fare dei miglioramenti che possano fare una profonda differenza nella mia azienda e negli altri. Ho notato un'organizzazione che ha realizzato oltre 2000 video di miglioramento ma il numero di visioni di questo video non era altrettanto elevato di quanto ritengo doveva essere. Erano ottimi video, i dipendenti li avevano prodotti con grandissima energia e creatività ma l'intera squadra non li aveva visti e il mio pensiero naturale era ma che spreco. Tutti quanti dovrebbero vedere questi video perché sono fantastici. Questo fa sorgere alcune domande. Esiste un modo organizzato con cui potete diffondere queste informazioni? Esiste una pratica particolare con cui le persone possano trarre idee da questi video straordinari? Alla FastCap abbiamo applicato lean al modo in cui facciamo tutto, soprattutto per il nostro marketing. Una volta alla settimana invitiamo un'email to second lean affinché persone in tutto il mondo possano vedere tutti i grandiosi miglioramenti che la gente sta facendo. Una volta alla settimana inviamo un'email di vendita di prodotti in modo che i nostri clienti possano vedere tutte le innovazioni con cui stiamo continuando a uscire. I risultati sono stati come minimo eccezionali. L'aspetto migliore è che questa è una cosa facile da fare perché abbiamo creato dei modelli per queste email esplosive e tutto quello che dobbiamo fare è spredirli alla lista dei destinatari. Mi sono chiesto perché mai ogni azienda non manda i propri video dei miglioramenti in due secondi ai loro dipendenti? Ho iniziato a suggerire alle organizzazioni di inviare un'email esplosiva ogni settimana con i grandi video che vengono prodotti dalla loro squadra. E come potrai immaginare i risultati sono stati fantastici. La chiave di successo di questi messaggi di posta elettronica è che sono oppure hanno. Sono semplici, hanno pochissime parole, hanno i link a video, sono personali, sono sempre indirezzate alla persona che riceve l'email come per esempio ciao Paul. Se possibile fai sempre una domanda. Puoi credere che Bob abbia risparmiato tanto tempo? Guarda il video qui sotto e vedrai come l'ha fatto. Questa è una pratica determinata. Nella prossima pagina, nel libro, pagina 138, troverai un esempio della nostra esplosione lean. Sei libero di copiare tutto quello che vuoi e i risultati saranno lean a tutta birra. Capitolo 23. La nostra nuova casa, costruendo per il futuro. Dopo anni di attesa e di pianificazione abbiamo finalmente terminato il nostro tempio di 50.000 metri quadrati, che sono circa 5 chilometri quadrati. Lean, la nostra nuova fabbrica a Ferndale in Washington. Ogni dettaglio è stato progettato con i dipendenti e con i clienti in menti. Paul aveva sognato di costruire un edificio allo stato dell'arte per anni, ma con la crisi economica del 2008, come avevamo visto in uno dei primi capitoli, il processo di costruzione era stato messo in attesa. Ma grazie al lean estremo abbiamo continuato a crescere. Il processo di costruzione è ripreso all'inizio del 2013 e ci siamo trasferiti alla fine dell'anno. Il nostro nuovo edificio è pieno di innovazioni lean. Uno dei principi lean più importanti è il rispetto per le persone ed è evidente ovunque si guardi. La struttura dispone di 110 finestre per la luce naturale, illuminazione a led automatica, riscaldamento, grandissimi ventilatori e un sistema audio Bose. Ogni giorno sembra che sia estate e lo stato di Washington è notoriamente piovoso e grigio, ma dentro la fabbrica sembra che sia sempre estate. Abbiamo anche costruito una venieristica cucina da chef a uso dei dipendenti, che ha i migliori prodotti elettrodomestici e armadi di qualità. La gente si sente rispettata e apprezzata. Spesso si possono sentire gli odori di cucina mentre si cammina in giro per la fabbrica. E si vede che siamo nati falegnami nel momento in cui si entra attraverso la porta. Per tutto l'edificio si vedono belle travi a vista e finiture di pino. La fanegnameria è il nostro parco giochi di 120 metri quadri e lì ci troverai sempre qualcuno. I bagni di Fastcap sono sempre stati il nostro orgoglio e gioia, quindi quando è arrivato il momento di progettarli per la nostra nuova struttura abbiamo rimosso tutti gli ostacoli. Nel vecchio edificio la gente doveva sprecare il movimento a piedi per andare in cinque bagni diversi. Quei bagni erano spesso occupati senza alcun modo di sapere prima di controllare manovrando la vaniglia della porta. Per eliminare gli sprechi abbiamo costruito il nuovo bagno in una sola posizione con più aree private. Questo ha eliminato il movimento in eccesso di dover camminare in diverse parti dell'edificio. Abbiamo anche aggiunto un altro sistema luminoso per avvertire le persone quando un bagno è occupato. Poiché le luci sono visibili da qualsiasi punto dell'edificio le persone possono facilmente vedere quando i bagni diventano disponibili. Questi due miglioramenti Lean ci hanno salvato ore di spreco ogni giorno. Oltre a rendere il nuovo edificio il miglior posto possibile per lavorare abbiamo progettato tutto in modo che tutto quanto il lavoro fosse estremamente fluido. Non ci sono pareti nella struttura tranne per il bagno, il legno e una piccola sala conferenze e la sala server. Questo ci consente una flessibilità assoluta quando si progetta il flusso di lavoro e ci permette anche di adattarci a qualsiasi futura necessità. L'impianto è stato progettato anche per essere facile da pulire e da mantenere. Invece di tappeti, piastrelle e pavimenti in calcestruzzo abbiamo usato calcestruzzo lucido da tutte le parti. Questo ci permette di standardizzare i processi e le forniture di pulizia. Ora la pulizia è divertente, veloce e facile. Ogni postazione di lavoro e la cella di produzione dell'edificio sono su ruote. Questo ci permette di adattarci a qualsiasi situazione che richiede il nostro lavoro. Se abbiamo bisogno di spostare la produzione più vicino alla spedizione, possiamo farlo in pochi minuti piuttosto che in giorni. Tutto dall'ingegneria alla produzione all'ufficio principale è mobile e modulare. Anche le nostre persone sono su ruote. Dal momento in cui il nostro edificio nuovo è molto più grande della precedente struttura, abbiamo bisogno di trovare un modo per andare in giro efficacemente. Pertanto abbiamo una flotta di monopattini motorizzati che ci consente di andare da una parte all'altra dell'edificio in meno di 30 secondi. Tutti i nostri uffici dispongono di scrivania in piedi. I banchi di lavoro sono disposti in quadrati che incoraggiano la collaborazione e vedrete spesso persone che si aiutano per affrontare progetti e per rispondere alle domande. Non ci sono opportunità di accumulo di sprechi in questo ufficio. Il reparto di progettazione grafica è aperto verso i locali di produzione, rendendo così facile la rapida modifica dell'imballaggio e dei materiali di marketing in caso di necessità. La maggior parte delle nostre postazioni di lavoro sono costruite con il nostro fast pipe, un sistema di tubi e di connettori in acciaio. Poiché utilizziamo materiali di costruzione standard, possiamo adattare qualsiasi stazione di lavoro secondo le nostre esigenze. Inoltre ci permette di costruire carrelli modulari, tavoli e stazioni facilmente duplicabili e modificabili. Se una stazione non è più necessaria, possiamo riciclare i materiali e trasformarli in qualcosa di diverso. Possiamo mettere in primo piano l'esigenza dei nostri clienti offrire prodotti più velocemente, a un costo ridotto perché non siamo ancorati a stazioni di lavoro costose o fisse. La scaffalatura dell'inventario è disegnata con navate larghe 1,70 m che ci permettono di immagazzinare il nostro inventario in metà dello spazio di scaffalature convenzionali. Il sistema di guida incorporati consentono al carrello elevato di funzionare in modo sicuro e a piena velocità. Alla fine di ogni scaffale di inventario sono le celle di produzione per tutti i prodotti nel corridoio. Questo consente il flusso dell'inventario dei prodotti grezzi alle merci finite prima che i prodotti lasciano il corridoio. Tutti i miglioramenti lean implementati durante il design e la costruzione hanno portato ad enormi aumenti di produttività in tutta la fabbrica. Siamo in grado di produrre articoli di altissima qualità che prima non riuscivamo a creare e il nostro volume è aumentato. Il tutto mentre il nostro lavoro è sempre più facile e più piacevole. Il tutto grazie a lean. Vuoi vedere di più? Vai a vedere il video tour sul nostro canale youtube. Ecco una risposta da uno dei nostri appassionati fan. So che ancora non hai finito ma il tuo lavoro continua a ispirare. Ti prego di assicurarti che la tua squadra sappia che gli sforzi che mettete nel processo ogni giorno stanno ispirando persone qui in Pennsylvania. So che la ricetta per il successo richiede un'ottima leadership e una squadra eccellente. Voi siete fortissimi e mi rendete orgoglioso dell'industria manufatturiera americana e di che cosa è capace di fare questo paese. Continuate l'eccellente lavoro. Siete per me un modello di vita. Firmato Sean Gross, direttore di ingegneria e di materiali della Viking Plastics. L'idea chiave è integralo e poi sarà difficile cambiarlo. Capitolo 24. Facciamo un giro. Ogni giorno ricevo circa tre richieste per fare discorsi oppure per fare visite alla Fast Cup. Adesso facciamo 24 visite all'anno e i requisiti sono deliberatamente rigidi per eliminare chiunque non sia serio per costruire una cultura lean. Non stiamo insegnando a fare lean. Stiamo insegnando a costruire una cultura lean. Con un tale numero di richieste abbiamo dovuto trovare un modo lean affinché potessimo raggiungere il maggior numero possibile di persone. Ho preso la mia videocamera e lo scooter Razor che sarebbe il monopattino motorizzato e ho trascorso quattro ore del mio tempo a creare un videotour. Nessun equipaggiamento professionale di produzione video. Solamente io, il mio personale, un Sony PJ790 e il mio Apple Macintosh con Final Cut Pro. Era semplice, veloce e facile ma non è perfetto. La perfezione è per quelli che vogliono spiegare tutte le ragioni per cui non possono ottenere le cose fatte. Questo video è stato progettato per offrire una panoramica del nostro modo di pensare. Abbiamo quasi mille video con oltre un milione di visualizzazioni combinate che sono gratuiti online ed entrano in tutti i dettagli di qualsiasi soggetto lean. Ci sono tante società in questo mondo che stanno facendo un lavoro fantastico per costruire una cultura lean. Quest'anno ho intervistato i leader di quelle aziende alla conferenza MAPP in Indiana. Alla fine del libro stampato è possibile trovare l'intervista di questa tavola rotonda lean. Sei aziende che hanno la cultura lean sono la Walters & Wolf in California, la Xylem Design in Colorado, Climb Easy Regno Unito, Yellow Tools in Germania, Viking Plastic negli Stati Uniti in Pennsylvania, la Omniduct in California. I requisiti del tour, anche se voleste aprire le vostre organizzazioni a ricevere visite, sono i seguenti. Il primo è che l'amministratore delegato deve essere presente. Ci rendiamo conto che alcune organizzazioni sono enormi e non è probabile che l'amministratore delegato partecipi al tour, però abbiamo avuto aziende con 70.000 dipendenti a livello globale, il cui presidente e i membri del consiglio hanno partecipato a molte visite. Abbiamo fatto qualche eccezione a questa condizione ma solo se siamo convinti che il leader che partecipa abbia il potere di costruire con successo una cultura lean. Il secondo punto è che i partecipanti devono leggere questo libro, Two Second Lean. Devono guardare in anticipo almeno 10 dei nostri video lean. Devono essere impegnati a trasformare la cultura e l'azienda in un modello lean nel corso di un anno. Nel primo anno devono creare 50 video di miglioramento prima e dopo. Devono creare un canale pubblico su YouTube per condividere quello che imparano mostrando i video che hanno creato al mondo. Devono assicurarsi che altre aziende possano visitare la loro struttura entro un anno dal loro tour alla Fast Cup e questo si chiama restituire. E la prima cosa che farai al tour è di pulire i nostri bagni. Questo insegna l'umiltà e dimostra che i processi sono efficaci. Due delle basi di lean. Se è possibile soddisfare i criteri di qui sopra questi sono i dettagli del tour. rispondimi con i nomi dei partecipanti. Secondo lavoriamo in un impianto di produzione per cui suggeriamo di portare vestiti caldi nei giorni freddi. La nostra temperatura in fabbrica è di solito di circa 16.7 gradi centigradi. Poi raccomandiamo di guardare i video elencati in modo da avere tutti un buon punto di riferimento per ottimizzare la visita. Potete anche vedere video nel nostro sito web di 2secondlean dove ci sono varie risorse che possono essere utilizzate come strumenti di formazione. I motivi per cui Fast Cup offre le visite lean sono primo perché abbiamo beneficiato tanto dell'apprendimento di Toyota Production System e questo è il nostro modo di restituire. Poi vogliamo che gli altri ricevano gli stessi vantaggi che abbiamo noi per costruire un forte clima imprenditoriale in America e nel mondo. Toyota poi ci ha insegnato apertamente e gratuitamente i loro 50 anni di esperienza per cui noi lo restituiamo e facciamo quindi la stessa cosa. Un altro motivo è perché le nostre persone diventano migliori quando insegnano lean. Inoltre le nostre persone si sentono molto ricompensate e soddisfatte quando altri vogliono vedere e sperimentare quello che stiamo facendo per costruire una cultura lean. Le aspettative di Fast Cup per la visita. I partecipanti dovrebbero venire con un obiettivo chiaro di quello che vogliono raggiungere. Mentre impari e implementi lean la nostra speranza è che tu lo paghi avanti, che tu lo restituisca insegnando agli altri entro un anno dalla tua visita a Fast Cup. Una cosa importante è che il tour non è per curiosi, è per quelli che seriamente vogliono imparare lean e si sono impegnati a prendere ciò che imparano e metterlo in pratica. Come dicevamo prima il tour deve essere accompagnato da dirigenti ad alto livello, per cui proprietari, presidenti, membri del consiglio direttivo e così via. E tutti i partecipanti devono essere impegnati a implementare lean e viverlo. Appena dopo il giro la cosa da ricordare è che lean è facile. Approccialo con questo modello mentale e avrai successo. Poi smettila di trovare scuse perché non puoi farlo, perché se trovi scuse non imparerai mai né sperimenterai lean. Per cui cambia te stesso, cambia la tua famiglia, cambia il tuo vicinato, cambia la tua vita, cambia il mondo. Vivi in una cultura lean visitando aziende lean. Per cui cerca altre aziende lean nella tua area, vedi quelle che aprono le porte alle visite e vai a trovarli. Diventa parte della famiglia lean delle imprese. Collegati con loro. Un altro punto è che siamo tutti qui per aiutare l'un l'altro. Prima prova e poi vedi benefici con i tuoi occhi e poi comincia a leggere e ad apprendere. Guarda tutti i video lean della FastCap e usali come strumenti di formazione nella tua azienda. Leggi il libro The Toyota Way. Iscriviti al canale YouTube e ascolta le trasmissioni settimanali di American Innovator e Two Second Lean. Ricorda, lean è un viaggio infinito. La mia speranza è che il tuo viaggio lean ti diverta come ha divertito me. La vita è un'avventura. Firmato Paul Akers. L'idea chiave è non imparare lean. Impara a costruire una cultura lean. E questa è la conclusione mia di Simone che ho letto questo audiolibro. Vivete lean e iscrivetevi al mio canale The Italian Job che cerca di fornire risorse non solo in inglese ma anche in italiano quando possibile. Avete ascoltato Two Second Lean scritto da Paul Akers e narrato da Simone Caneparo. Per maggiori risorse andate a visitare paulakers.net dove troverete i libri in varie lingue e video e altre risorse utili per continuare nel nostro viaggio lean.